Benvenuti, benvenuti in una nuova puntata di Radio Tomodaci, come state chat? Ciao a tutti, ciao! Ragazzi, già non iniziate con i meme di Franchino, insomma, almeno fateci partire, fateci parlare Dagliero Madaglie, Scrocchiarello, Settemino Meno Pieno, vabbè, ragazzi, un attimino, intanto fatemi dare il benvenuto Grazie a chi si sta abbonando, recupererò tutti gli abbonamenti, come al solito, alla fine di Radio Tomodaci Grazie al sostegno preventivamente Niente, grazie a tutti, oggi parleremo di un tema molto particolare, un tema che mi sta molto a cuore Sapete che Radio Tomodaci è un po' il mio tesoro, quindi condivido su questa piattaforma e questo venerdì gli argomenti che mi premono di più L'argomento che mi preme tanto oggi è parlare di vita di paese contro la vita di città Perché io sono un paesano, sono nato paesano e molto probabilmente morirò paesano Nonostante mi sia spostato a Ponte d'Era, non è che è una metropoli tipo Los Angeles, è un pochino più grossa di Colle Salvetti, il mio vecchio paesino Ma bene o male è una cittadina, uno sputo di terra, diciamo così Però allo stesso tempo ho saggiato la vita metropolitana, la vita a Roma e a Milano attraverso il mio lavoro Quindi ho dovuto fare tante trasferte, sono andato tante volte a Milano a lavorare, a viverla per poco Ecco, non in senso stretto con metropolitane o il trantrane, timbrare il cartellino Ovviamente infatti con me ho degli ospiti che mi aiuteranno nelle mie tesi, ovvero nella difesa del paesino E anche nella critica asprissima nei confronti del paesino E poi c'è anche una persona che ha girato per tutto il mondo e che ha vissuto tantissimi anni a Roma Quindi andrei a presentare i miei ospiti, non perderei altro tempo, ovvero Franchino e il criminale Buonasera a tutti E Dario Fattorini che è un mio amico di Pazza Buonasera, buonasera a tutti Dario Fattorini non è assolutamente, per chi non lo conoscesse, un content creator, un influencer, fa un lavoro normalissimo Ma è qui in veste di amico e soprattutto in veste di abitante di Colle Salvetti esattamente come Paesano da 33 anni, quindi rappresento la categoria, faccio il sindacalista dei paesani stasera E tra l'altro te hai lavorato anche in comune, quindi puoi anche parlare di questo Sì, hai avuto varie esperienze a livello politico in comune che ti fanno vedere la realtà dei paesi Comparata con quelle delle città anche da un'altra prospettiva, a 360 gradi Mi dicevi a cena anche un po' negativa Certo, la vita di paese è amore e odio, quindi ci sono rapporti Ma anche la vita di città è amore e odio, no? Questo come lo tu Certo, infatti siamo qui proprio a parlarne, infatti inizierei da quello Allora, banalmente la domanda che può aprire, intanto grazie Franchino Ma di che? Ma grazie a te Un youtuber della nuova guardia, no? Nonostante Ma quale nuova guardia? Sono un vecchio Vabbè sei vecchio, ma comunque stai venendo fuori ora, no? Ma tu ti rendi conto però che viene fuori, ora, su YouTube, un vecchio Ma non sei un vecchio, sei dieci anni più di me, tipo Ma non sei un vecchio, sei un uomo Ma è un prodotto fresco Un omino, un ometto Già comincio a vedere i cantieri con una luce diversa Allora sei pronto a venire in paese? Eh? Sei pronto a venire in paese? Ma io da mo' che so pronto Ma ne parleremo, infatti Tra l'altro abbiamo fatto una deliziosa scena da Mi Padre Da 9 più più pieno Sì, però ora spoileri poi il finale del video Perché ha fatto un video meraviglioso Eh, sti cazzi Dai, ne parleremo Tanto se lo vedono comunque Sì, farò la reaction, ovviamente E farò il Dario Moccio della situazione Da un video veramente venuto male, male Ah, poi dici per le inquadrature Inquadrature fatte malissimo Poi niente luce, shatterava tutto Si strighierai come pochi Si sta paraculando, palesemente Vabbè, comunque parleremo appunto Allora, partiamo dalla domanda base, ok? Che vantaggi ci sono a stare in un paese A stare in una realtà paesana Ma perché voglio introdurre così l'argomento? Perché io ci ho sofferto da ragazzetto Perché io sono sempre stato così Collezionista, i fumetti, i videogiochi Ora è tutto sdoganato I ventenni di ora, i quindiciani di ora Mi sentiranno parlare arabo Perché effettivamente Da maggior parte di loro Ci sono sempre tanti problemi Nelle realtà di paese Ancora c'è tanto lavoro da fare Però ai tempi, negli anni 90 Se giocavi a videogiochi E leggevi i fumetti In un paesino Quando la gente invece smarmittava E sostituiva pezzi e motorini Erivi vessato Preso per il culo e tutto Eri un matto Eri un po' lo scemo del villaggio Eri un matto Ma è mai capitato a te? Per esempio? No Di essere stato considerato lo scemo del villaggio No No, perché io facevo tutte e due Cioè io giocavo, nerdavo Però modificavo pure i motorini Ok E mi buttavo giù dal dirupo Quindi avevo Sempre avuto sta dualità Ti buttavi giù dal dirupo? Sì, sì, vabbè Per dire Con i carretti Insomma, anni 90 Dai, non parliamo di queste cose Veramente cringe Comunque sì Facevo tutte e due le cose Cioè mi sbucciavo le ginocchia Però nerdavo come un pazzo Usa sempre, eh La corsa dei carretti C'è ancora la corsa dei carretti? Eh sì Non sono anacronisti che vecchio Ma guarda è bello che c'è pure te 33 anni Inizi a essere vecchio pure te Magari ci stanno tanti ventenni Che stanno a dire Mamma mia Sentisti tu boomer Perché cominci anche tu Tra l'altro io ho fatto anche il giudice La corsa dei carretti, eh A Colle Salvetti Ci sono anche le foto Dario ha fatto No il giudice Il presentatore Se per ricordare i carretti Hai fatto pure il giudice Allora ragazzi deve Cioè l'abbiamo a settembre La corsa dei carretti A Colle Salvetti Dario ha fatto il presentatore Della corrida di paese Il presentatore dei giochi senza quartiere Di paese Quindi beh Di gavetta l'ha fatta Sì sì Ma io sono sempre stato attaccato al territorio Perché ho rivalutato Ma andiamo per gradi Allora si parte da un aspetto positivo Quindi lasciamo stare Tutto quello che riguarda più la socialità Perché lì forse ci sono più aspetti negativi Sicuramente sarà una cosa più banale Però Come qualità di vita In un paese Qualità di vita proprio Di benessere anche fisico È maggiore rispetto a quello di un paese Sì sono d'accordo Sicuramente credo sia Quello più scontato Ma l'aspetto positivo Di vivere più tranquillo Più rilassato Potenzialmente meno stress Poi ovvio dipende da una marea di cose Lo stress Però potenzialmente Uno tende a fare una vita Più noiosa Ma anche con meno stress Quindi un benessere di vita maggiore Penso sia il primo Il primo Ti svegli Vai al barrino Vedi stessi vecchie giornate a briscola C'è la tua realtà Ritmo più tranquillo Trovi sempre parcheggio Parcheggio sotto casa Ecco diciamo subito le cose più Parcheggio sotto casa Non impazzisci Non diventi matto Mi immagino che in città Questa sia una cosa Per di Però secondo me Dobbiamo innanzitutto Cominciare nel differenziare Non in due macrosistemi Ovvero paesino troppo piccolo Città troppo grossa Ok Perché secondo me Ci sono varie sfumature Non c'è bianco e nero Ma ci stanno Una serie di colori E di scala di grigi Mi parla di scala di grigi Io arzo le mani Ma che è un franchino Ormai Cioè che si è ripulito Un franchino democristiano È assurdo Io voglio un franchino Che mette il dito nella piaga Attacca Incazzato Invece no Ma scusa Ma prima della live Ti ho detto Chi vuoi Franchino Alessandro Mi hai detto Sentiti libero Stoffa Alessandro Vuoi Franchino Non c'è problema No 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 Allora Allora però Allora però Parliamo come dico io Allora sì C'è il paesino C'è la grande città Il paesino è una merda Forza Roma Ma dovemo fare quelli Di discorsi No 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 Dai stavo improntando Una discussione seria Dai facciami seriosi Divi divi No che Secondo me Bisognerebbe pronto Non Non fare questi due Macro sistemi Paesino troppo piccolo Dove si Vivi bene Matti a noi Come un ladro E metropoli Troppo grande Troppo caotica Perché c'è Tutta una serie Una serie di sfumature Tra il paesino Troppo piccolo E la città Troppo grande Che sono Paesino un pochino Più grande Paesotto Cittadina Città vivibile Città grossa E invivibile E a seconda anche Delle Della personalità Del carattere Dell'età Uno può scegliere Dove vivere In base anche Alla grandezza Del posto A quello che gli serve A quello che non gli serve Quello che io ho vissuto A 15 anni Non è quello che io ho vissuto A 20 A 25 A 30 Ma anche a differenza Di lustri Un lustro 5 anni Anche a differenza Di ogni 5 anni Di cambio Mi cambiavano anche Le attitudini Le esigenze E io A 45 anni Oh madonna Santa Mi ritrovo A ricambiare A rimodulare Le mie scelte In base Alle mie esigenze All'età Finisco Vuol dire È anche un discorso Di possibilità Perché Se non te lo poi permette Non hai scelte Ti adegui A dove stai Se io prima Lavoravo su Roma Facevo il tecnico De pugilato A mille euro al mese E lì stai E tu fai una bene È tutto bello Che figo Al momento che ti cambiano Le cose Le carte in tavola Hai disponibilità economica Ovvero quindi Hai la possibilità Di scegliere A quel punto Scegli E scegli A seconda Delle tue esigenze Del tuo carattere Di quello che ti serve E quello che ti serve Vi posso assicurare Che tra paesino e città Cambia Un mucchio Un mucchio di cose Se ti puoi trovare Bene nel paesino Ti puoi trovare Bene nella città Secondo me È molto personale Come scelta No quello sicuro Ma lo sai perché Avevo iniziato questo discorso Per trovare il bicchiere Mezzo pieno Perché noi ragioniamo bene Abbiamo un'età Possiamo permetterci Determinate realtà Le scegliamo Abbiamo uno stipendio Però in quindiceno Ho anche un ragazzetto Che purtroppo nasce In un paesino Ed è obbligato A stare lì Come dicevi te O per famiglia Per affetti Per lavoro O per disponibilità economica Prende in culo Quindi bisogna cercare Di fargli vedere Il bicchiere mezzo pieno Perché poverini Ancora tantissime persone Mi scrivono Che mi seguono Meno male Mi fai compagnia Perché se non c'hanno Una fumetteria A cinque minuti Ma ce l'hanno Un'ora e mezzo Spesso si trovano A condividere Le loro passioni Solamente con loro stessi E può essere effettivamente Debilitante Alienante Disaggente Eh disaggente Io per esempio Raccontando la mia storia Ho avuto veramente Delle difficoltà Proprio per questo Era proprio Difficile farmi capire E io non so nemmeno Perché era così difficile Farmi capire Il paese Però non può essere Solo quello Cioè veramente Se stai in un paese Non ha Non c'era internet Come c'è oggi Chiaramente Veramente non sai Guardare al di fuori Cioè non sai che c'è Un mondo di passioni Di lavoro Cioè questa roba Mi frustrava È molto più complesso Condivido Tutte le premesse La vita di paese Innanzitutto Tutti sanno chi sei Anche se te non conosci uno Loro conoscono te E c'è un livello Di giudizio Ma anche Dovuto alla noia Alle consuetudine Un livello di giudizio È molto più alto E quindi Un livello di giudizio Che porta Un pochino più A un appiattimento A una standardizzazione Quindi L'eccezione O Chi ha Uno stile di vita Diverso Diverso Fra tante virgolette O più particolare Non rientra Nella standardizzazione Ma è proprio un clima Che si autocrea E devi essere Molto più forte E temprato Il carattere La noia è una cosa importante Secondo me La noia devasta Le persone Nei paesini Probabilmente Questa necessità Di giudizio Di spillaccherare Deviva anche tanto Dalla noia Spillaccherare Vuol dire Dire fatti degli altri O impicciarsi Fatti degli altri Fare gossip Chiacchieroni Dipende sicuramente Dalla noia Dalla difficoltà Di spostarsi Dal fatto che Comunque Chi non si sposta mai Vede sempre Quelle tre persone Tre persone Tre persone E c'è questa voglia Di Senso comune Di Generalizzare Quindi Devi essere Molto più forte Per essere Qualcosa che Nelle città Ci sono di più Molti di più Pensiero simili Si trovano A voglia Cioè Vai in una grande fumetteria Trovi altri ragazzini Che comprano fumetti Ma io Sai perché Do a ragione a Dario Per quanto riguarda la noia Perché io per noi Nel paese Ho fatto di tutto C'è chi si drogava Chi si sfondava Ma di brutto Noi abbiamo passato Anni 80 90 Dove nei paesi O te drogavi O scopavi Erano queste due le cose Che facevi Ma ci si divertivano In altri modi Noi dare Ma solo noi Noi abbiamo sostituito La droga Con andacca Davanti Alle porte dei vecchi Cioè Che era una passione Un po' più particolare O si andava alle sagre A spaccare tutto Ambriasse A tirare barili giù Dalle discese Insomma Era anche quello Un tipo di droga Nostra Cioè ci sei Droga sociale Droga sociale Esatto Era quello Era Però cazzo Non deve essere Necessariamente così Cioè non può essere Solo droga O barili giù Dalle discese Bisogna trovare Una sorta di tart Te che hai vissuto In città Per esempio Hai vissuto In tutto il mondo Te mi hai detto Che inizi a odiare Roma Non ce la fai più Vorresti No io l'ho sempre odiata Roma Attenzione Perché? Ma perché è caotica Ma io odio Le grandi metropoli Caotiche Dove è difficile Fare tutto Qualsiasi cosa Proprio perché Comunque sono Centri urbani Che mi mettono L'ansia Perché devi stare attento A tutto Devi stare attento A qualsiasi cosa Devi stare attento Che ti rubano Il portafoglio Devi stare attento Ti attraversa la strada Devi stare attento A non farti la mettere In quel posto A non farti fregare Ed è una guerra continua Quando tu esci La mattina di casa Fai la guerra Per trovare parcheggio Per la fila Al supermercato Per fare qualsiasi cosa Piccoli gesti quotidiani È tutto difficile E allora come si fa? Qual è la ricetta giusta Di vita secondo voi? Ogni periodo Avrebbe il suo Come dicevi prima forse? Ogni periodo Ha il suo Anche in base alle esigenze E in base alle possibilità Perché tu puoi avere Tutte le esigenze del mondo Però se fai Le possibilità economiche O familiari O di salute O di amore O di lavoro Te lo impediscono Le tue esigenze Te le metti bene Bene in quel posto Quindi Le tue esigenze Se sono accompagnate Dalle possibilità Di scegliere Poi lì dipende Dal carattere Da quello che cerchi Io sicuramente Ho fatto tanti cambi Io sicuramente Sono Vivo a Roma Ma c'ho la residenza In una piccola casa Di 50 metri quadrati Che c'ho In un paesino De 900 anime Che sta aggrappato Al lago di Bolsena Uno dei quei paesi Che sta all'intorno Al lago di Bolsena Quasi al confine Con la Toscana Perché è l'ultimo paesino Nord-est Quindi praticamente È a 7 km Nord-ovest Scusate È a 7 km Dalla Toscana A 15 km Da Pitigliano Da Sorano Che sono già I due primi paesotti Toscani Tipo Pitigliano Lo conosco Pitigliano Sto a 15 km Da Pitigliano E Pitigliano In Toscana Dove sto io È Lazio Ci fanno la festa Delle cantine A Pitigliano A Pitigliano C'è la festa Delle cantinette Certo Per chi Lo vorreste sapere Ragazzi A parte che così Sembrano Comunque Se c'è la festa Delle cantine Sì e mi ci trovate Quasi tutti gli anni Già ubriaco e nudo Comunque Bello È bello La droga sociale La droga sociale Di cui si parlava No comunque Sono residente lì Quindi ho sta casetta lì E come posso Vado in decompressione lì Weekend L'estate Io l'estate la passo L'estate È il periodo più buio Dell'anno Perché Costa È un bordello ovunque C'è troppa gente ovunque Godo Godo La odio anche No ma io la amo In teoria l'estate Io la odio Per un discorso di gente Per me il lusso È dove non c'è la gente Ma qui in te Non sopporti la metropoli Perché non sopporti Devo cambiare telecamera Non sopporti la gente Io sì sono Questo Questo discorso Lo facevi anche a vent'anni Sì Ah ok Ah quindi ho avuto Sempre le idee chiare Coerenti Sempre le idee Sempre le coerenze A vent'anni non si fa così A trent'anni ti dico Ma io starei bene Anche in un casolare A Montecandoli Guarda io A 40 magari no Dove A Montecandoli Guarda io Sempre dalle nostre parti Sono le mini frazioncine Dei mini paesini Delle frazioni Guarda io a 28 Quindi a vent'anni Nell'età Nel decennio dei venti Molto prima Quindi prima dei trenta Sono andato a vivere in Svezia Ma andando a vivere in Svezia Non ho scelto una città come Stoccolma O comunque abbastanza grande Come Gödeborg o Malmo Io sono andato a vivere A Istad Che è un paesino Di trenta milanime A sessanta chilometri Da cinquanta chilometri Da Malmo A sessanta Settanta Quindi da Copenaghen Quindi quando volevo La grande città Prendi un video Nella casa che avevi L'usanza che c'è in Svezia Non avevi le tende Le finestre Anche te Io so No Ci avevo No perché lì Hai voglia di luce Non usano le tende No vabbè Nessuno ti guarda in casa Probabilmente davanti Non hai un cazzo Fallo un paesino Però per esempio Però per esempio Ci si toglie le scarpe Quando si entra Cosa che ha fatto Dario Cosa che ho fatto Vabbè anche in Giappone Mi sono abituato Anche per il Giappone Sì io per la Svezia Tu aveva le scarpe Anche Svezia usa Ok figo Sì Svezia si entra senza scarpe Invece io sono invecchiato Diversamente Franchino Io non sono stato Tu sei invecchiato bene Però ti trovo bene Grazie Non c'è un capello bianco No c'è una due o tre qua Vabbè Ah ma una robetta No comunque sono cambiato Mi sono molto addolcito Nei confronti del paese Prima ero molto contrario al paese Lo odiavo con tutto me stesso Proprio perché non mi sentivo capito Poi quando ho trovato La mia dimensione Ho trovato il mio giro D'amicizie nuove E poi ho ritrovato Quel rapporto Che avevo perso Con i miei amici E loro hanno rispettato In qualche modo Me con Portando la pagnotta a casa So che è brutto Perché non dovrebbe essere così Cioè te non devi dimostrargli qualcosa Guadagnando Dovresti dimostrargli qualcosa Con quello che fai E loro dovrebbero valutarti Per quello che sei Per quello che fai Ma non è così Purtroppo nel paesino Sono tornato E ora ho forte nostalgia di casa Furtissima Cioè quando torno a Colle Salvetti A trovare i miei Oddio Cioè è un po' Non lo so Forse è la vecchia Forse mi sto sentendo vecchio La prima osteoporosi Qualche sciacchetto Non c'ho niente Sono perfetto È anche un po' Un vivero da lontano Magari se non fossi mai spostato Non ce l'avresti Con questa nostalgia Dici che se fossi rimasto a Colle A Colle mi sarei sparato? Potrebbe essere Questo non lo puoi sapere Mettiamola su un piano di opportunità Che è la prima L'altra differenza che si vede Paesini ma anche grandi città Livorno ad esempio Una città ma è un paesone Vero Cioè le opportunità Sono poche Spesso non sono comprese Quindi Ma quello dipende Perché a me per esempio Sono discorsi che un po' Mi fanno sorridere Quando dici Eh però Pisa non c'è niente No adesso io sto alloggiando a Pisa Ma a Pisa c'è il mondo Ma a Pisa non c'è niente Ci stanno sempre i soliti Cioè i 6-7 locali Per andare a bere Ma a Roma Che ce n'hai 6.000 dei locali Tanto ti riduci A frequentarne i 6-6 È vero È vero È vero È vero Io dicevo opportunità Non nelle cose da fare Per l'amor di Dio Quello è tanto personale Però opportunità Lavorative Un'idea più particolare Presa e sviluppata Su Milano Ha successo Qui è fantascienza Probabilmente ti può portare A depressione Se non hai carattere forte Ha una proposta Di un'idea innovativa E questo è Ah però ha successo Magari solo a Milano Perché quello però Non dipende Città e paese Perché magari È Milano Perché è Milano Perché se tu proponi Quella cosa a Roma Non ha successo A Firenze si può fare tutto A Firenze investe un sacco Per esempio Noi invece Per esempio Lo so di che cosa Sta parlando Dario Perché ci abbiamo provato Più volte Io quando ho acquisito Un po' di popolarità Sul web Ho provato a fare un sacco Di cose con i salvetti Ma per esempio Né Ponte d'Era Né Con i salvetti Ma mai Te lo dicevo anche a cena Ma mai cagato Per fare niente Io andrei a gratis Porca puttana Di si ha fatto Il ganso comics Che era Qui lo applico bene Letteralmente A cento metri Da casa di Nanni Non l'hanno chiamato Cioè non l'hanno chiamato Bastava che Nanni uscisse Cioè che è già un miracolo Uscisse E andasse al ganso comics E avrebbe fatto L'ospitata Non ci hanno chiamato Non ci hanno cagato Nessuno ci caga Noi vorremmo Molto valorizzare il territorio Ma non ce lo permettono E anche se ragazzi Però quello non è sempre Un discorso di città O paese Quello è un discorso Di quotiente intellettivo Di che amministra Determinate cose Perché purtroppo Il loro quotiente intellettivo È molto basso Ed è un discorso Di insiemi E di insiemi di persone Era come nel pugilato Ragazzi Perché a me Non coinvolgevano In quanto youtuber Che portava il pugilato Ma ma serio? A me nel mondo Del pugilato Non mi ha mai convolto Anzi Un po' per invidia Un po' per altri motivi Ma hanno sempre tagliato le gambe Siete stupidi regà Siete stupidi Non voi No no Siete stupidi Ho capito Quindi la stessa cosa È di chi amministra Il comune di Ponte d'Era Che c'hanno Dario Moccia Che abita lì E non lo coinvolgono A presentare La sagra Del cazzo fritto Io ci andrei domani Di Omer Di Omer Da gratis Perché ci vivi E quindi Chi amministra Rispecchia la mentalità Di chi è amministrato Sì però Non è un discorso Ponte d'Era È proprio un discorso Dico un esempio Su di me Ora il lavoro Che faccio io Sul turismo Io ho aperto Un glamping In mezzo all'olivi In idea innovativa Le persone qui di paese Ma la gente A dormire in mezzo all'olivi Ma c'è cinghiali Cose Imprazzata Ma infatti Non sto parlando solo Di figure pubbliche Di personaggi pubblici Perché i giovani Che vogliono fare qualcosa Io per esempio Quando non ero nessuno Avevo 18 anni 19 anni Uscivo dal liceo artistico Andrei a proporre un murales Qui a Colle Servetti Non mi cagò nessuno Anche a Livorno Proveva a fare qualcosa Le nuove idee Un po' perché Un po' perché Questi giovanotti Dove vogliono andare E anche per quello Insomma Sono frustranti i paesini Perché vuoi cercare Di far qualcosa Di muoverlo un po' Ma non ti permettono Di fare una sega E stanno morendo Molti paesi Ci sono tanti ragazzi Frustrati Con buone idee Che sono attaccati Alla loro terra Alla loro territorio E stanno lì E perdono tempo Scrivono su Twitch Per trovare qualche amico Sì però non è che stanno morendo In qualità di Appunto agglomerato urbano Stanno morendo Perché amministrati male Da persone Che se non sono vecchie Anagraficamente Sono vecchie Nella testa È quello il discorso Che il cambio generazionale Qualora c'è È comunque sbagliato Cioè il cambio generazionale Delle amministrazioni Lo prende poi persone Che non sanno fare Il loro lavoro fatto bene Non danno spazio Magari a delle buone idee Ma il giovane di paese Spesso poi Quello che veramente Poi paesano paesano Magari esce Guarda poco E poi la mentalità è questa Sì ma perché La maggior parte delle persone Non c'è paese o città E non c'è neanche La latitudine Nella quale Nella quale tu ti sposti Il problema Del mondo È la razza umana No vabbè Così Franchino Franchino È un buon copo Sì perché La maggior parte Sì ed era lì A mangiare una schiacciatina Buona carne Buon orzale E lì di là E ora è il problema Del mondo È la razza umana Certo perché La maggior parte Delle persone Ragiona in quella maniera Ok Quindi tu lo trovi Nel paesino Lo trovi nella città Non è che in città Cambia O in città Trovi persone Tanto più senzienti Ma c'è di tutto C'è di tutto C'è più gente Quindi trovi anche Magari appunto Come nella fumetteria Le persone che comprano I fumetti insieme a te Però Sempre il rapporto C'è pure tanta più gente Che non ci capisce In cazzo Perché il problema È la gente È la persona È la razza umana Secondo me Infatti Le realtà Proprio Queste realtà piccole Sono in realtà Una culla Per i nuovi caratteri Le nuove generazioni Molto importanti Per quello Io mi incazzo tanto E per quello Voglio parlare Di questa questione Perché secondo me Se si riuscisse A fare un lavoro Nei paesini Nelle cittadine Anche nelle grandi città Dove Si fanno eventi Per esempio Luca Luca A parte Luca Comics Fa un sacco di eventi Un sacco di attività Un sacco di attività Che accentrano tantissimo Le persone E le nuove generazioni E quella roba lì Ti permette di Abbattere dei muri Tra mondi diversi A creare Giri di amici Giri di persone Socialità Amicizie Lavori anche nuovi Ed è un peccato Ed è un peccato Perché tantissime persone Mi scrivono E mi dicono Proprio questa roba qua E mi faccio una po' La città più chiusa Delle tre Cole Luca Luivorno Pisa e Luca Non pensare Non pensare Che si sono proprio chiusi Negli anni Loro La città più chiusa Lo dico da Livornese Di mentalità Livorno è più chiusa Livorno è dei Livornesi E ti parla uno Che era il campagnolo Che andava a scuola a Livorno Quindi parla con esperienza È vero È vero Io ero campagnolo L'altro sindaco Ah sì Davvero? Ma con tre anni fa Quattro anni fa Lista civica Godo Eh Come si chiamava Lista civica Non mi ricordo Il futuro Come tu lo ricordi Come si chiamava di più Comunque L'amministratore Rispecchia la comunità Perché vuol dire Che se c'è quello La maggioranza È quello Il problema è la comunità Il problema è la razza umana E allora come si fa A aggiustare questa roba qui Come si fa A aggiustare questa roba Se voglia che ci sia più Comunicazione fra le varie La gente Non devi avere paura Se vedi sempre Le solite tre persone E lì ti chiude il cervello Dopo trent'anni Poi addio Forse è recuperabile Ma non sia giusta Ma tanto Ma no Perché le persone Ma che fai capire Devi crearti il tuo micromondo Alla fine Non sono d'accordo Poi più scambio Più scambio Allora in realtà Li devi estruire ed ed educare Sì Educare è un termine Un po' bruttino Secondo me Cioè sembra quasi Una forzatura Pretenzioso Un po' arrogante No semplicemente Gli devi far capire Che le cose Effettivamente possono cambiare Anche da un piccolo paese Perché puoi partire Dove ti pare Secondo me E qui Questa roba qui Ce l'ha l'America Che io odio Io detesto il pensiero americano Però questa roba qui Che stillano fin da Quando sono piccoli Ai bambini Ai ragazzetti Cioè Che te ce la puoi fare Che tu parta da Harlem O da Bronx O che tu parta Da cazzo della cittadina O da Los Angeles Dal quartiere pettinato Di Los Angeles Loro comunque Vengono inculcati su questo Subito sanno Che loro possono arrivare La Silicon Valley E il sogno americano Che è una cazzata Però Allo stesso tempo Avere questo piccolo stimolo Non sarebbe per niente male Invece Li facciamo chiudere Sempre di più Capito C'è un sistema di zavorre Che queste cose Se le abbattono Però posso dire Troppe cose negative Però posso dire Se stiamo a perdere una cifra In che senso Abbiamo preso una No Non è vero Ameri Ameri California Los Angeles No L'ho capito Dal totario Vantaggi e gli svantaggi Del paesino Ma sì Ma è una chiacchierata Ci importa una sega Abbiamo iniziato subito A volare harto Se vuoi Dico qualche altro svantaggio Un po' più Ad esempio Vita di paese Problema per un ragazzo La fregna La fregna Non c'è fia No Ti devi spostare Ti devi spostare C'è poi fie Magari sono anche Un po' più Vispotte Non lo so Questo non ho mai capito Dicevano i paesi di più Non lo so Le fregne ci sono Non so la gente Non c'è di meno C'è di meno C'è una dieci Ci si scagliava Sembrava di Obama Cioè tutti No per dire C'era quella Si lasciava Alla si metteva con un altro E l'altro si lasciava Andava con un altro E devi andare a Vicarello E sembra l'esplorazione Vicarello era a 100 metri Da con le Salvetti Uno dei paesi preferiti di Dario No Eh sì Allora Sì Sì Probabilmente Probabilmente la fregna Un problema Il paesino Dici po' La fregna probabilmente Il paesino è un problema Magari anche viceversa Vale anche per le ragazze No noi parliamo da uomini Mentre nella grande città È un vantaggio Questo è un vantaggio Ecco possiamo Se vogliamo scrivere Vantaggi Svantaggi Paesino Svantaggio Fregna Grande città Vantaggio Fregna È vero Questo lo possiamo annoverare Ecco ci siamo Ci siamo Ci siamo E' questo Effettivamente Siamo da qua Infatti l'ho capito subito Non so mai Beh a parte La prima è stata No la prima era In Forse No in Trentino Trentino l'ho trovata La seconda A Stagno E poi la terza La mia moglie A Carrara Che era già un po' più lontano Però invece tu pensa Quelle povere figlie Che ci sono Quelle poche Che si devono Sorbire Una manica De Subumani In che sé Vabbè Sorbia tutti i subumani Nei paesini No La maggior parte Il discorso Stavamo a fa prima Un sacco Cioè diciamo C'è meno E quindi queste poveracce Se girano Se girano Meno offerta Meno offerta La domanda Un po' impazzisce Te l'ho data In termini di mercato Però No si hai ragione Si sicuramente Sono più assillate Poi anche perché Sono più assillate C'è un altro Poracce dai Beh no no Certo Nel senso mettite Nei panni loro Perché noi stiamo a fare Il discorso Nei panni nostri Si da gorilloni Da gorilloni Ma invece tu Mettite nei panni loro Anche loro Non è bella La vita Ti lasci Ti lasci dal ragazzo storico Del paese Magari stai soffrendo Come una pazza Perché Lo amavi Si esatto T'ha trattato una merda Sei a casa Piangi tutto il giorno Già ci sono 10 persone A fatte le poste sotto casa Oppure che ti etichettano Perché se tu poi magari Vai Lei la ragazza Ah perché si magari lui È il re del paesino Guarda Nel paese puro Nel paese puro Quello da 150 persone Si ma quale pure Dammi quello da mille Però comunque appunto È un problema per gli uomini Ma secondo me È un problema Ancora di più per le donne Si è vero Sono d'accordo Perché se Il ragazzo Che ti ha lasciata È il ragazzo Più popolare Della cittadina Ma che sei pazzo E va a dire al giro Che sei una troia Sei rovinato Cambia domicilio Non volevo usare Certe appellativi Però è così Vengono anche di che O addirittura Mettono in giro video Perché è successo Ma che sei pazzo Brutta 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 Quindi per la città Diciamo che I rapporti interpersonali Sono migliori Perché almeno Sei una grande città Sei tanti Te conosci Eccetera Ogni giorno Ogni giorno volendo Conoscere una persona nuova È vero Ma è così in vantaggio Conoscere sempre persone nuove Secondo voi Scambio di conoscenze Dipende per cosa Dipende dalle esigenze Io ti dico Che uno dei vantaggi Del paese È proprio conoscere tutti Che è uno svantaggio Per molte persone Per me è un vantaggio Perché sai Che è il tuo amico E sai che è il tuo nemico Fino a un certo punto Però nella maggior parte Dei casi così Nelle grandi città Per cui lo odio Milano Io non odio Milano Ora ci memo molto Su Milano Ma la cosa che detesto di più Devo stare attento Devo stare attento Perché se conosco Cioè che poi lo conosco Veramente Ma quando ti addentri Nel mondo Dei tuoi colleghi Che sia Un ufficio Che sia il mondo Di content creator Ne usci sempre di più Vai scavare sempre di più E lì sì che ti fa schifare Razzo umano Perché capisci Qual è la merda vera Però ti fa schifare Razzo umano E diciamolo No No non mi fa schifare Dai diciamolo Dario dai No non mi fa schifare Ma arte C'ha i suoi difetti No c'ha i suoi difetti Dipende da casa a casa Scusami Quindi ti voglio fare Una pattuta Ma te la posso fare Però dipende da casa a casa Assolutamente Non è che non siamo tutti uguali Dai Anche nel mio lavoro Ma anche nel lavoro di Dario Penso Non è che sono tutti uguali Penso Spero No La ragazza umano C'ha gli stronzi E c'è quelli bravi Sta a te distinguerli Eh Scusami Io li differenzio così In queste due macro categorie Con le poi mille Mille sfaccettature Però sostanzialmente Sì certo Perché quelli stronzi Sono tanti Sono tanti E spesso sono E quelli bravi Sendo il stronzo Arrivano proprio di più Perché E per quello la città Mi fa cacare Perché sono talmente tante Le persone che stanno In una metropoli Come Napoli Torino Roma Milano Che quando ti vai a giro Torino no Torino è più bella dici? Sì È anche più piccola È vero sono d'accordo È anche più piccola È bella Torino È molto bella Torino I torinesi Allora Io non so Perché poi ci stanno Ste leggende metropolitane Che non si sono mai vere Cioè? Che non si lavano No Torinese è falso e cortese È vera Sarà vera Non lo so No perché molte volte Però non so vere È perché è un detto Da aggiornare Cioè per esempio Si pensa che Il popolo più tirchio In Europa In Europa Sono gli scozzesi Ah gli scozzesi? Gli svedesi Sono molto più tirchi Ad esempio Sì Perché non si dice tirchio Come uno svedese Sono dei tirchi Quindi non so Non so più crederci Fuma come un turco Fuma come un turco Però poi magari Perché i svedesi Non si presta bene Svedese è lungo È vero È un po' cacofonico Quindi non lo so Torino Saranno falsi e cortesi Come veramente si dice Boh Supermercati Che è passione La puzzettina sotto il naso Dal modo di parlare Non lo so Però Torino Non è una grandissima Non è una grande città Come Milano Roma Napoli È più piccola È più vivibile È più misura d'uomo Ma infatti Poi secondo me Dove lo sai dove si vive bene? Tutte quelle città Che non si nominano Tipo Domodossola Ivrea Cuneo 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 Trieste è bella Trieste la nomina Un sacco di persone Sì però Se fanno molti cazzi Non è nominata Come Palermo Napoli Firenze Bologna Che stanno sulla bocca Di tutti Trieste Udine Udine Trento Bolzano Bolzano è bella Ci sta bene Cazzo Io vorrei andare a vedere Crema Ci siete mai stati a Crema? Sono stata a Cremona Crema no? Modena Parma Mantua Piacenza Tutte le nord Non so Tutte le nord Fermi tutti Fermi tutti Attenzione Se cerchi la gente affabile Il clima vai al sud Però se cerchi di lavorare E le cose che funzionano Una bella linea da Reggio Emilia Ma dai Ecco Salvini Ma vai a fare il culo Dario Moccia Ma ascolti Ma io vorrei andare Questo è come i camionisti Che si fermano Ma no Signora mia Tutto magna magna Ma signora mia Io ho una settimana Che sto qua a Pisa Mi sembra di essere tornato Negli anni 90 Perché? Ho assistito ad uno scippo No Eh ma è un caso Giuro In diretta A Pisa? Una signora È passato uno Gli ha rubato la borsa Inizia a correre polizia Ma forse eravano un film No 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 E l'ho visto con i miei occhi Non mi ha capito tutta la vita L'ultima cosa L'ultima volta Che ho visto una scena del genere È stato a Roma Negli anni 90 L'ho rivista a Pisa A Pisa Una città toscana Ma anche a Napoli Ho visto una cosa del genere Mi sono visto Un scippo in diretta Giuro E poi una sera Con la macchina Stavo andando verso il centro Svolto Col pandino Stavo con una mia amica In macchina Eppure un altro amico dietro C'era un chihuahuino In mezzo alla strada Ma lo sai No Tutto spaventato E c'era un tipo accanto Che lo vedevo un po' Alticcio Ma lo sai Io già Proprio ero nel chill Stavo andando Stranamente Perché non vado così Piano Vado piano No Stavo andando piano Stavo andando proprio A 20 all'ora A 30 all'ora Addirittura mi fermo 20 metri prima Perché faccio proprio Lo vedo il cane Ineditamente Quindi proprio Questo qua Impazzito Si prende il cane in braccio Mi inizia a inveire a Pisa L'altra sera Vabbè va cazzo Ma c'è una merda Non lo fare mai più Che cazzo E mi inizia a dare le botte Sul pandino Ma hai visto Ste cose Te lo giuro Te lo giuro È successo Quindi E sai che i pisani Sono tutti tranquillini E che ti devo dire Il budello De tua madre Si tipo Vabbè ma Dibisimitario E Quindi vabbè No Stavamo parlando Dei centri Dei grandi gire Roma Roma Napoli Cioè secondo me So accettare Che ci vivi Se ci nasce Bari Non puoi Ma Bari No Bari Bari Perché lui prima Mi ha detto Salvini A me Io sono innamorato Il sud Ah per me Salvini No che tu Mi hai detto a me Salvini Io sono innamorato Il sud Io andrei a vivere Il sud A me piace il caos Del sud Però cazzo C'è tanta gente Che ci soffre Veramente in Calabria In Sicilia C'è veramente Cioè manca l'acqua Un casino Ma sì Capito Ma non solo Ma veramente Se te serve Ma se te serve In ospedale Già Ma come fai No ci mori Dai su Veramente Cioè già la sanità In italiana Sta ampicciata Almeno scegliete Quella di Bergamo Te sei fissato Con Bergamo Ma io ci trasferirò A Bergamo Sì ma Perché è un po' La Svizzera italiana Ma sì ma Funziona tutto Si vive bene Ma ti ammazzano Sembri turco Ti fanno fuori sicuro Sì Sì Ci devono venire a provare Siamo io e Dario Morello L'amico mio Buggi Le calabrese Che sembra più turco De me Viecce Uscito il franchiere Sì 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 Però ci dovete Venire preparati Dovete essere 7-8 Insomma Belli cattivi Ma vuoi andare a vivere A Bergamo te? Allora secondo me No a parte gli scherzi Vai Parlando Parlando seriamente Per un discorso lavorativo Io devo cambiare Comunque città Ok Ormai Roma l'ho bruciato Ho fatto tutto Mi dicevi Hai girato tipo 800-900 locali Eh beh Se tu conti Tre locali Ogni episodio Metti che sul mio canale Stanno più di 450 video Metti che 150 Sono quelli vecchi Del pugilato Altre cose Penso un 300 video Sul cibo ci sono Metti tre video Ogni video Stiamo a parlare Comunque Non dei 1800 700 Ti posso fare una domanda Più specifica Allora Per non fossilizzarci Sul lavoro Su quello che facciamo Te Girando un botto Per Roma E girando tanti locali Saggiando proprio La vita della metropoli Anche le persone Che ci lavorano Che stanno facendo La storia O comunque Un percorso Ben preciso In quella città Qual è la cosa Che ti ha fatto Più commuovere Di Roma La cosa che Ti legherà O ti ricorderai Per sempre Di Roma Anche se ti trasferirai E farei un'altra vita Ma rispetto a quell'argomento Ma rispetto a te Alle tue emozioni A quello che hai visto Cioè qual è la cosa Che ti rimarrà Nel cuore di Roma Niente No dai È possibile Dai Ora non fare Il duro No no Per me Roma È una città Invivibile Sotto tutti i punti Sotto tutti i punti Vista È difficile Fare qualsiasi cosa E soprattutto Roma non riesce A vivertela Come dovresti Vivertela Quindi non c'è più Un ricordo Bello Ma da anni Me lo sarò dimenticato Magari 20 anni fa 25 anni fa 30 anni fa Quando si prendeva i motorini E ti potevi vivere il centro Adesso come adesso Ormai da già un ventennio Il centro Ha un Luna Park Per i turisti Il romano Non riesce a vivertela Il centro A meno che non si è disposto Si è fatta Un'ora di macchina E mezz'ora di parcheggio Quindi il Luna Park Dei turisti È il centro di Roma Che poi tra l'altro È grosso Quindi tu non vivi Poi più al centro Anche perché dovresti Essere ricco No cioè Se sei ricco e privilegiato Allora Roma è pure bella Ma se tu sei una persona normale Che vivi in un quartiere Anche borghese o buono Della capitale Vivi comunque in un quartiere L'urbanizzazione è quella Il marciapiede è quello Il palo della luce è quello Il semaforo è quello Quel quartiere poi sta lì Poi sta a Bologna Poi sta a Torino L'urbanizzazione è quella Non cambia Non stai a Roma Per andare al centro Te ce vuole un'ora Quindi poi vive Da qualsiasi altra parte Meglio Perché Roma Qualsiasi cosa fai Ce vuole un'ora Io Andavo a prendere Una ragazza Una sera Andavo a beve una cosa Ritorniamo al discorso Visto che comunque È sempre il cardine Di ogni cosa Che si muove La figa La fregna Se io devo andare a prendere Una fregna Che abita Due Non 18 Due quartieri Accanto al mio Che ne so Tuffello Tuscolana Senza traffico La sera Ci vogliono 35 minuti Senza traffico La sera Quindi io per fare Due quartieri Senza traffico Allineare così Ci metto 35 minuti Per andarla a prendere Poi magari 20 minuti Vanno a sabere A birra Non al centro In un altro quartiere Di merda Lì vicino Riaccompagnarla a casa E tornartene a casa Se stavo due ore e mezzo In macchina Per stare fuori A bere Una birra Un ora Che vita di merda è Un trombino in meno Magari Magari no Magari proprio il sesso orale Quello di cortesia Prima che ti saluti Che però Voglio dire Quello non si rifiuta mai Come la beve Ma qui niente di Roma Ti ricorderai Nemmeno il pupone Ma guarda Io sono legato Io non tifo il calcio Non è uno sport Che seguo Se proprio Devo essere Legato a qualche Calciatore della Roma Sono legato Più a calciatori Del passato Del passato Non certo a Totti Cioè per me I capitani Sono stati altri E quindi Cosa stai Cercando adesso Cioè il tuo posto Ideale Dove vorresti andare A vivere Secondo me Il buon compromesso Tra un paesino Che ha tanti difetti Tanti Tantissimi La noia Cioè abbiamo un po' Parlato di prima È la grande città È una cittadina vivibile È proprio La via di mezzo Cioè una città Che quindi ti offre Gente Persone Persone nuove da conoscere Locali Che dove funziona tutto Però dove fai Le cose in dieci minuti Cioè Certo Certo Cioè per svolgere La tua quotidianità Tu devi svolgere Una quotidianità Che è fatta De lavatrici De spesa Non ha pagato la bolletta O che cazzo ne so La fregna sopra citata Sì Ma quella non fa parte Quella fa parte Della bellezza della vita Ma beh perché sono sposato Ormai La quotidianità Proprio le cose Che tu fai La spesa La posta Il barbiere Cioè L'avvocato Il commercialista Che cazzo ne so Devi riuscire a svolgere Per ti quelle cose In un'ora Di modo che poi Lavori Vivi Perché se tu invece Per svolgere La tua quotidianità Ci metti tre ore Eh già Io invece Poi chiedo a Dario Per chiudere E poi tocca I nostri Siamo già gli ascoltatori Ah siamo già gli ascoltatori Mancano dieci minuti Abbiamo già fatto quasi in ora Così Mazza So come è possibile Ma è vero E in un ora Non manco Franchino È uscito Poi una volta Per Salvini Ti ho visto bello attivo Ma è morta scena Mai dato terza No Ti ho detto Stai facendo un discorso Alla Salvini Eh no Sì ma non posso No non è un discorso Alla Salvini No Non ci sto Scusami tanto Allora riapriamo un attimino Il discorso No parliamo seriamente Perché ma io comunque Offeso Hai detto una cosa No no non ti ho offeso No no Eh no Se tu mi hai detto Hai fatto un discorso Alla Salvini Prima di tutto Hai fatto un discorso Populista Qualunquista Becero No Io generalista Quando intendo un discorso Vabbè ma un po' di Generalizzazione Quando lui mette tutto In un frullatore Ma non posso essere Paragonato a lui Ti prego Ma mi rifiuto Ma tu provo Che io me te magno E poi bene È quella che cerca La provocazione La base è quella Ma Mi ha fatto ecco Mi ha fatto perdere il discorso Vedi Mi ha fatto pensare a Salvini Mi è scappato Stiamo agli utenti È già passata un'ora Volevo Stavi per fare una domanda Mi stavo per fare una domanda Ah sì ecco No ti dico invece Qual è la mia dimensione Di vita ideale Capito Non la cittadina Io invece voglio rimanere In paese Perché mi garbano I vecchi Dio mio Sì sì Te lo giuro A me garba Quella roba lì Cioè Io odio i vecchi Non ce la fa Io voglio È poetico È poetio Allora Io odio un film Ok Che Agnese ama Che si chiama Chiamami cortunome Un film di Che non mi garba tanto Perché è un po' smielato Così Questo era Però C'ha una cosa Che mi ha colpito Ovvero Che fotografa La realtà Che amo io Cioè La realtà locale Delle persone Di cui non parla nessuno Questi vecchi Che parlano dei loro cazzi Rievocano i vecchi ricordi Quelle robe lì Io inizio veramente Ad amarle Non so perché Sennò scemo Non lo so Sennò non lo so Ti vuoi martoriare Le palle No Non lo so Perché È bello ogni tanto Andare lì E danno uno scossone Poi mi sento anche Tipo un 007 Io con i contatti Con internet Giro per il mondo Milano Roma Tutti Sapé che Vado nel mezzo a vecchi E loro mi vedono Arrivare Catuta Tutta strappata La maglietta D'artonimati Chissà cosa fa Questo imbecille Chi è E io Mi sento quasi Un agente sotto copertura Ad avere una vita Così sconclusionata Stramba E che giro A me affascina anche quello Il fatto di mischiammi Al paese E a studiarmelo Per poi raccontarlo No Un po' Per magari immagazzinare Idei che poi mi serviranno Per il mio lavoro Non lo so Ma tu sei pazzo Sì Ma tu sei un fottuto pazzo No ma certo perché Hai provato Ma perché Non ha mai Non lo capisco Allora c'è Una che ci sono I vecchi si dividono in due categorie Quelli Carinelli E i Cacacazzi Lui perché non ha mai incontrato I Cacacazzi Eh sì No sì E allora sei pazzo Ma in che senso Ma Dario dice Gli piace Il racconta storie E un vecchio di paese C'è una settanta C'è mille È surreale Quello che senti e vedi Tutti i vecchi di paese Hanno scritto un libro Dei suoi ricordi Dei paesi prima Cioè ognuno ha scritto Un libro che racconta Prima come era Quel mercato Quando incontrava Su cose semplici Allora risponde a Valiotto Che non è vera questa cosa Lo sai perché Ho raccontato molte volte Questa cosa Ti garbano i vecchi Perché non stai In un condominio di vecchi Che non ti vogliono Tra le palle Che non puoi fare nulla Perché vogliono il silenzio Nessuna spesa condominiale Minacce varie porco due I vecchi Falso Io abito In un condominio Pieno di forze dell'ordine Che mi scassano Il cazzo per tutto E qua invece Dove sto In un altro condominio Ma hanno già mandato Due lettere Due lettere dell'avvoato Hai capito Ma non me ne frega un cazzo Sì Ma io godo Come ti hanno mandato Sì due lettere Per cosa Per delle cose Vabbè delle cazzate Per divertissi Perdono tempo palesemente Ma hanno mandato due lettere E io godo Perché gli metto Croari Il mio avvocato Che è una piovra Perché ha a che fare non Con Diobono La condensa dei condizionatori Non ce l'ha Ma c'ha a che fa Con cause milionarie E ora ci sguinzaglio Croari Che mi fa un bucio di culo così E io godo Perché vedo i vecchi Vedo i vecchi Che si spaventano È molto interessante E guarda che Ah vabbè Ma allora il tuo è sadismo Però Ma tu vuoi stare in mezzo Ai vecchi per sadismo Allora dillo Perché sai Che ti cagano il cazzo E poi tu Eh no Vabbè Giuseppone preparati Prepara le carte È matto È matto Sei matto No questo ho fatto La crucianata No però a parte Di schede A parte le crucianate Io no ti dico Che in realtà A parte le cause E tutto Ma non è vero poi Però due lettere Me le hanno mandate Per la condensa Ho chiamato il tipo E mi ha costruito Condizionato Vorrei lo fate Aggiustare Cioè Però Mi affascina Mi affascina A livello proprio Non lo so Mi affascina Mi affascina Sentire i loro discorsi Vedere che Sei matto No no Perché Te la do io La risoluzione Non serve manco All'analista No non è questo Seriamente Lo sai perché Perché mi riportano Alla realtà Questo è un lavoro È un lavoro Che ti fa viaggiare È vero Completamente con la testa Non ti fa mai Poggiare i piedi per terra Abitare in un paesino Ti fa stare con i piedi per terra Perché tocchi La realtà Tocchi il popolo Tocchi i lavori veri Non è nostro Anche un lavoro vero Si paga un sacco di tasse Però I lavori belli Proprio concreti Tradizionali Tradizionali Ecco bravo Tradizionali Li tocchi Li saggi Ci parli Hai il contatto Con la realtà Ma Dario Ti serve la realtà Si Ma Franchino Dimmi la verità No ok In quel senso Si deve voglio Volentieri Però Dimmi la verità Tu giorni Ti schillo In una maniera No ma a me piace Io sono stato in tutti i quartieri Mi garbabessi Anche Dario In gioventù Abbiamo fatto il triodio Andando alla garbatella Ci tirarono Mephisto Manna addosso Che risate Vabbè Comunque Non è quello Quello che ti volevo dire È che Come sai bene Nel nostro lavoro È pieno di gente Ciacrilli per la testa Va andare nella grande città E poi Viene assorbito Dalla grande città Viene traviato Dalla grande città Invece Il paese Secondo me Ti riporta Con i piedi per terra Ti dice Questa è la realtà Non tutte le cazzate La terra Le galline L'uovo Ma poi inizio Era un coltivatore diretto Qui faceva l'uovo E ho guidato La metripepia Ma come facciamo Appena fatto un discorso patriottico L'Italia è di dare Le comuni E io aggiungo E io aggiungo un'altra cosa Che Il futuro È il ritorno alla campagna Perché ormai Il sistema cittadino È un sistema Esausto Pieno La campagna Da copertina Completo La campagna da copertina No La campagna Ritorna alla terra Perché che hai in città Che vai a fare Basta Col center Sono pieni Il problema è che Questo è un altro discorso Davvero Perché i giovani Non vogliono fare quei lavori È un casino No ma ci sarà Un ritorno alla campagna È necessario Per forza Speriamo A me non mi pare vero Cioè io no Perché mi fanno cagare Quei lavori lì Non sono buono a nulla Poi mi stanco subito Sono pigro Però C'è a chi piace C'è a chi piace un botto Certo Il futuro secondo me È proprio il ritorno alla campagna È proprio il ripopolamento Di centri piccoli No fermi tu Fermi Regalano le case in Giappone Addirittura per questo Ma i paesi di ora Sono la metà Delle abitanti Sono tutti cittadini Questo concetto C'è anche da noi Ritorna alla campagna Ritorna alla campagna Detto da uno streamer top Ma che cazzo c'entra Ma se non mi capa Fa lavoro Ha detto Lavoro in campagna Detto da uno streamer top Allora io posso dire Solo le cose legate allo streaming Perché non voglio andare ampio Ma cosa ci cazzo In campagna non c'è inter Ci arriva male Ma perché l'hai letto Quei messaggi Perché così li posso blastare Cristo di Dio Ma sì ma sono messaggi Non me ne frega un cazzo Ma vogliono trollarti Ma ti devo insegnare io Certo che mi vogliono trollare Ti vogliono triggerare Ma devono capire Che se vogliono trollare Il re dei troll Moriranno sempre Verranno dilaniati Sempre Non passerà mai E poi molti di loro Non so troll Sono seri perché sono deficienti Perché No sì Ecco Lo sai meglio di me Sì È vero Però De De Ah dai Io sono Si incazzano Dio madonna Perché dai sette meno Una schiacciatina Cristo di Dio La gente Non ho già più La percezione La tua fanbase Ma lo zì Ma tu vedessi cosa gli fanno Lo minacciano Ma cosa assurde Saranno amici Di quelli che hanno fatto La schiacciatina Eh Si ipotizza Sì ci sono tante Io ricevo messaggi Su messaggi al giorno Infatti Perché non mi puoi taggare Un messaggiare su Instagram Ho bloccavo tutto Ti offendi Insulti Minacce Madonna Però poi sotto casa mia A Roma Non ce n'è nessuno Non so perché Vabbè Lo sanno tutti In tuo abito Vabbè Comunque Dario L'ultima domanda Poi passiamo agli ascoltatori Quale invece è il tuo stile di vita ideale Cioè qual è il tuo Nido Perfetto Paese Città Cittadina Ad ora Che te sei legato a cola E non esci per d'accordo Sì ripeto È un rapporto di amore e odio Poi c'è progetti Uno li vuole talmente bene Ora in questa fase di vita L'ideale non è È una Una realtà un pochino più grande Sempre vicino al paese Però ora io ho un'esperienza Qualcosa di più grande la farei Un Pisa Sì Sempre rimanendo collegato In questa fase di vita Un Pisa Sì perché inizia a stare sempre un po' più stretto Un piccolo Un Pisa Un Pisa Sì Ma un Pisa è un libro Qui vicino Sempre vicino Firenze Firenze è già più Firenze no Perché è bellissimo Bellissimo Come Roma Io amo Roma e Firenze Però Dello stile Come me ne parlano Firenze è un quartiere di Roma Che fa 400 mila anni È un quartiere tuscolano Forse è caotico Ma non può essere tuscolano Io sono a Firenze Firenze Quando uno viene da Roma È una passeggiata Paolo Parla con Lo studente che è stato 2-3 anni a Firenze Ti racconta Ma quello che viene Dalla provincia Dalla Puglia Cioè nel senso Perché io che vengo da Roma Per me Firenze Faccio il centro Tutto a piedi Con 20 minuti Dove se giravo tutto Sì ma doveva anche lì E mica resta nel centro Il centro Sì ma uguale Aspettate dai Il microfono Isolotto Noi campagnoli Non si deve andare Nella bua fiorentina Vabbè Asgard La bua fiorentina Mi sembra un po' troppo Nella piana Nella piana Un po' in pruneta Mi crederebbe Stare un mese in pruneta Bellissimo Bellissimo Se ci avessi sordi Mi prenderei proprio Una casa incredibile Vista a due Se ci avessi sordi No guarda Per avere una casa Del genere Vista a due Vista a due Cioè comunque Una casa importante A Firenze Cioè molti più soldi Ti rispondo più nel dettaglio Stare bene più vicino Al mare ora Quello sì Perché Un Tirrenozzo No quel Cianella Quel Cianella Chioma Che è sempre Campagna Castiglioncello 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 La Bevelitz Solo Te l'avevo detto Dicevo una cosa tabù Ma il re l'ho detta Comprati quella di Renzi Perché è in vendita No no Comunque va bene così Dai ragazzi Allora io direi di Dato che siamo in perfetto orario Di far entrare gli ascoltatori Facciamoli parlare Facciamoli sfogare Vediamo che cosa hanno da dire Io mi alzo Posso dirti Posso chiedere una cosa Certo Si possono insultare gli ascoltatori Puoi fare quello che vuoi Sei sicuro Sì Vuoi scherci Te l'ho detto ora Di lagno Trolle Ma comunque sono bravi Sono bravi Di solito sì Prego dai Chi c'è Per primo Se c'è qualcuno Ma sì Abbiamo provinato oggi Tanto Quanto è bella la mia Quanto è bella la mia Ciao Mi sento Sì ma basta un po' Già sento che sei Olio Sei Olio Giusto Ciao Dario Ciao Olio Ora va bene Ora va benissimo Come stai Olio T'ha posto Bene bene Allora ti vivi in Francia Io la so un po' la tua storia Dicci un po' Di che cosa vuoi parlare Allora io sono passato da Un paesino di merda In Calabria In 900 abitanti No una metropoli Ma comunque una grande città in Francia Di quasi 70 mila abitanti Quale? Colmar Dove fanno più mini? No Non è quella La marca Sì quella lì Davvero? È scazzata Bravo Dario Come hai fatto? Boh Non so se li fanno proprio qua Però comunque Volevo parlare Del Com'è diciamo Essere Quello Diverso Comunque quello strano In un paesino Dove si conoscono tutti Diciamo siamo pochi E lo standard di persone Che ti trovi lì È sempre quello Ok Eh beh parla pure Perché hai avuto problemi? Ma diciamo Sì Poi problemi Roba Normalissima No normalissima è il cazzo Però Diciamo che Una volta arrivato in Francia Avevo tipo 12 anni Super ingenuo Ho mandato un vocale In un gruppo In un gruppo Che avevo di scuola In un gruppo di classe Che avevo le medie La prima media in Italia Mando questo vocale Dove dico Una roba Normalissima ovviamente Che Dove dicevo Che in quei giorni là Stavano usando Di Di essere tirato anche dai ragazzi Ok Ok Questa cosa Che è una cosa normalissima Una volta tornato in Italia Per vacanza Mi ritrovo tipo Tutto il paese I miei coetanei Gente adulta Che l'aveva saputo Mi fanno Occhio Occhio alle parole Sì sì No no Certo Mi fanno Oh ma è vero Sei ancora gay Sei ancora gay Non vuol dire nulla Si è ancora come Se tu potessi switchare Da un momento all'altro Essere gay Non essere gay Mamma mia Sì sì appunto Ma poi non sono gay Quindi vabbè E se domande del cazzo E poi Da questo Sono passate A mettere voci in giro Anche false Con persone Del paese Roba del genere Ecco queste cose Quindi la tua esperienza Col paese è totalmente negativa Proprio per questo Sì 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 Completamente Quindi stai meglio Adesso dove stai Cioè in Francia Ma la differenza L'hai sentita anche proprio Francia Italia L'hai sentita tanto La differenza tra i ragazzi Che ti stanno intorno Tantissimo Cos'è che differisce Di più Olio La cosa Che ho notato La differenza Che ho notato Cioè in realtà Non è proprio una differenza Fra la Francia e l'Italia Perché fare un paragono Così grande Fra il mio paesino E questa grande città Ok Che poi se tanta mila Non è nemmeno Così grossa Cioè tipo Una città di un paesino Di quasi mille abitanti Eh sì vabbè Ti sembrano metropoli Effettivamente Sì esatto Vabbè Settantamila Inizia ad essere qualcosa Però insomma Pisa quanti ne fa? Cinquantamila? No Pisa ne fa cinquanta Di pisani Che raddoppiano Con l'universitario Eh vabbè Quindi Una Pisa Una Pisa Una Pisa francese Bene sono contento Che tu Comunque Te non cambieresti mai La tua realtà Non torneresti mai In un paese Io? Eh ora Cioè in futuro No Non credo proprio Non riuscirai mai A perdonare Questa cosa Ecco No ma in realtà I paesini piccoli Mi piacciono anche Però appunto Le persone Diciamo che non sono il meglio Sei rimasto un po' bruciato Da queste esperienze Esatto esatto Eh mi dispiace Olio non la sapevo nemmeno Questa storia Cosa? Non la sapevo Non me l'avevi raccontata Questa storia Va bene Sono contento Allora voglio Che tu stia bene adesso Sono contento Però mi raccomando Vai a scuola Perché Sì ma a scuola ci vado Questa è la voce del Discord No sì La voce del Discord Vabbè comunque Mi raccomando Tira diritto Soprattutto Non prendere più 4 mg di tachipirina Non prendo più 4 mg di tachipirina Mi raccomando Non mi fare nervosire Da questo punto di vista No vabbè adesso Va bene Dai Se volevo fare solo un saluto All'Olofs E Rufighi Va bene Non siamo alla Rai qua Comunque Ciao 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 Vorrei fare un saluto All'Olof Ma poi li senti Tutti il giorno Su Discord Che cazzo saluti 4.000 mg Sì 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 Vai Il prossimo Poi c'è anche una sorpresa Per Franchino Come ultimo intervento Preparato una sorpresa Ciao ragazzi Ciao Sentite? Sto a posto? Sì ciao 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 bello Sono Daniele O Orbital Buffalo Anzi Bisonte Orbitale Scusate Ah Bisonte Orbitale Mio padre Certo Eh sì 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 sicuro Ti ricordo Quindi c'è tuo padre Mio fratello Sì 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 Comunque mi ricordo Bisonte Dimmi tutto Io volevo portare Portando il punto Su Su un parallelismo Che Spostandomi Da Una città Piccolina Diciamo Tra virgolette Come la Spezia Che Come diceva il ragazzo Prima Sono appena Centomila abitanti Ed è famosa Ad esempio Per Matteo Riso Eccetera E per la taverna Del metallo Ma non strillate Non c'è bisogno Di questa enfasi Sì ok Va bene Siamo in un bel posto Scusa Lo è Daniele Che purtroppo Ogni tanto Il Dario mi parte No bravo Sponsorizza bene Sponsorizza Sono passato A una città Come Bologna Per studiare E lì Praticamente Ho trovato Soprattutto Dentro il centro storico Un ambiente Quasi da paesino Perché ad esempio La mia famiglia Viene da un paesino Abruzzese Di mille abitanti Dove esci A prendere il pane Con la bicicletta E torni con la busta Sul manubrio E Fino al centro Di Bologna Dove da studente Abitando Prenente sotto le torri E mi sono ritrovato In una città A misura d'uomo Per lo meno sempre L'interno delle mura Ok Ha trovato un clima Una comunità da paese In una grande città Che è Bologna Sì ma che Bologna È cinque volte più grande Della Spezia Che la Spezia Anche se è più piccola Di Bologna Come è fatta È meno vivibile Di Bologna Che è più grossa Cioè non cambieresti Bologna Per niente Guarda Io Vivendoci da studente Quindi Anche un lavoro Avendo un lavoro All'interno Tra virgolette Sì È veramente a misura d'uomo Quindi è Fetta per dire Io non l'avrei mai detto Io ci ho girato tanto Per Bologna Però non la vedevo così precisa Anzi la vedevo più caotica E mi affascinava per quello Invece te l'hai trovata Molto più precisa Mi dice Ma precisa Nel senso che Io lascio la mattina Che ne so Faccio la spesa Poi vanno in università A misura d'uomo A misura d'uomo Sempre a piedi È veramente il top Quindi magari uno anche All'inizio avevo paura Prima di trasferirmi Per andare in una città così grande Ma poi diventa A parte magari I rave Durante Lungo le strade Le scritte Che magari qualcuno Non piacciono Già Diventa veramente Può essere molto più di quello Che ci aspetta Quindi è il tuo anche un consiglio Stai esortando Assolutamente Ok Bellissimo Va bene Ma poi Promo del modello Bologna Dai Assolutamente Io la provo Poi posso mettere un altro Certo È piano di fregno Bologna Eh sì È purtroppo Confermo Purtroppo Perché purtroppo Scusami È perché sono già impegnato Ah Sei pieno di tentazioni È un purtroppo grosso Ci sta Ci sta Ti ringrazio amore mio Bocca al lupo Per la tua vita a Bologna Ciao Ciao Io sono Alessandro Ciao Ale Il mio Il mio nick è tipo Castoro Pandoro Castoro Mio padre Ma sono tutti i tuoi padri E beh Ma è Bonati Ve l'ho detto Non me li toccate Diventa una iera Vai 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 Prego Castorone Ok no Sì io ho 24 anni Allora io volevo parlare Di un altro argomento Che fortunatamente Per me non è stato toccato Dall'interno della live Cioè quello dei ricordi In parte è stato È stato toccato Però Sì è stato sfiorato Però sì Esatto Allora io Vengo da La Sicilia orientale Da provincia di Catania E ho vissuto Anzi tuttora Le stati Le passo Quindi tipo giugno Fino a settembre Le passo in un piccolissimo paesino Una contrata praticamente Chiamata Nucifori Il paesino Il paesino si chiama Santalfio Che è veramente un paesino Sperduto In mezzo alle campagne Delle pendici dell'Ettra Dove però ho vissuto veramente I momenti più belli Della mia infanzia Adolescenza Perché hai vissuto Perché non stai più lì? Diciamo che Allora Le stati le passo In quel posto Però diciamo È diverso ora Perché essendo cresciuto Non ho più diciamo Gli amici che avevo Da piccolo È come dire È sfumato Quel periodo lì Perché da piccolo Appunto Mi ricordo che vivevo Un sacco con Stavo un sacco Con i miei amichetti Girovamo Le sagre di paese Mi ricordo che tipo Dato che ero amico Degli amici Dei ragazzi Che organizzavano Nelle famiglie Perché organizzavano Allora la festa patronale Andavo sul campanile Li portavano tipo Alle sagre A dove vendevano i polli Bellissimo Per me queste robe Sono bellissime Lui mi prenderà Pescemo Io ho vinto Un facciano una volta Un facciano Un facciano vivo Da piccolo Era un po' strano Da piccolo Vedere i polli Venduti per Pochissimi soldi Dentro le gabbie Però Però erano belle Come a One No D'incirca Era così La realtà Un po' più di genere Giuro Era Sì era un po' più controllata Penso di One Però Vabbè Poi Un altro ricordo incredibile Che ho Avendo una vigna Piccola Le gare Sui terrazzamenti Vabbè comunque Ricordi incredibili Le gare Quindi volevo chiedervi Dici Le gare Diciamo Hai due macro gruppi Di stasera Quindi gruppo paesino E gruppo Singolo Della città Che poi si sono mischiati Un po' stasera Diventa tutto un ibrido Enorme È vero È vero È vero Però volevo chiedervi Quali sono i vostri ricordi Che portate nel cuore Quindi Indissolubilmente legati a voi Che però sono Specifici Di quel contesto Cioè Come per esempio Per me La sagra di paese Non la puoi trovare Magari nella città Come Roma O Milano Quindi Appunto Quali sono i vostri ricordi Che sono specifici Di quel contesto E che veramente Quando morirete Pensere Quando morirete Comunque Quando sarete nella fase Diciamo Della morte Nella fase finale Ripenserete Quei ricordi Come qualcosa di Pazzesco Vai Io lascio la parola a voi Poi dico io Vai vai Vado io? Vai Allora Sicuramente Guardate Prendo a spunto Questa cosa delle sagre Perché il senso di comunità Che si crea Io ne ho organizzate Proprio Da gestore Sei sette Partecipo tuttora Parteciperò Con le poche Che sono rimaste Il senso di comunità Che si crea In una sagra di paese Quindi tutti i ragazzi Anche di Differenza Età Perché poi non c'è più Differenza Fra 10 15 anni E le tavolate Alla fine Quindi proprio Uno spirito di appartenenza Alla comunità Che è forte E rimane E che si sta perdendo Perché È sempre più difficile Però sono Bei ricordi Sicuramente E uniscono Lì si unisce Il bimbo Di 10 anni Da 20 anni 30 anni A tutta l'età 40 fino all'80 anni Tutti insieme Quella è proprio La comunità Sono d'accordo Il sabato del villaggio Diciamo così Prego No per me invece Il gioco Dei bambini Io da bambino Che facevo al paese E non in città Sotto casa Per strada E anche la libertà Che hanno i bambini Di giocare Per strada Cosa che in città O almeno Nelle grandi città Come Roma Napoli Ormai credo Sia diventato Quasi impossibile Nel paese I figli Sono i figli De tutti Cioè il genitore Può sta a casa E il figlio Sta a giocare Che lo guarda La madre De quell'altro Eccetera E possono Io mi ricordo Comunque Che i giochi Che facevo Da bambino Al paese Con i nonni Sotto casa E per strada Che ha bicicletta Con i palloni Con nascondino Eccetera Io a Roma Quei giochi lì Non l'ho mai fatti Lo facevo l'estate Con i nonni Al paese E tornavo a Roma Si potevano proprio fare Non ho mai giocato Per strada Giocavo al parchetto A pallone Caramici Ma sotto casa Per strada Non ho mai fatti Da ruotavano Cioè nel senso Allora io Condivido con tutte e due E poi Vabbè Ma ora Ricordi particolari Ci sono tanti ricordi E mi legano anche a Dario Dove Effettivamente Lui veniva da me Io venivo Andavo da lui A casa sua E Le mamme erano Un po' di tutti Mi ricordo anche Una Una sera Mi pare Un pomeriggio Dove era Un pomeriggio D'inverno Credo Perché Spesso Questo me lo ricordo Ancora nitidamente Non mi ricordo Una sega Ma queste robe Ancora mi sono rimaste Impresse nella testa Mi ricordo Che quando si usciva Dalle elementari Spesso Accadeva un miracolo Ma molto spesso C'era la mamma Di Dario Che mi diceva No no Oggi te vieni a me Oppure Il contrario C'era La mia mamma Diceva No no Ci siamo messi d'accordo Dario Dario Fattorini In questo caso Sei a casa nostra E allora Quello voleva dire Che si passava Tutto il pomeriggio Insieme Si gioava E una sera Mi ricordo Andò via la luce Andò via la luce A Colle Salvetti Era tutto buio Ed era uno Di questi pomeriggi Dove sai La sera viene presto No quindi Un pomeriggio Invernale Tutto buio E mi ricordo Che si accese Tutte le candele In casa Per far luce E quello Un ricordo Indelebile Perché si giocava Ci si divertiva Per noi la notte Non era un disagio Ma era un divertimento Perché si poteva Accendere le candele E giocare nel buio Solo con le luci da candele Quella è la cosa Che mi ricordo meglio Cioè uno dei ricordi Più nitidi che ho Della mia infanzia E erano robe Robe proprio Di un altro tempo Ed è quello che mi manca È quello che mi manca Ma siamo invecchiati Non ci sa più voglia Si lavora Però sì ecco Colle per me rappresenta Quello La socialità L'amicizia E poi tante feste Tante scorribande A 15 anni Il motorino Se ne è combinato In tutti i colori Sono bei ricordi E quelle robe lì Non mi riportano Ti ricordo A terra E basta Diventano Diventano La mia linfa Proprio sono storie Da raccontare Poi Sono cose che Riciclo tantissimo Per quello che faccio Anche involontariamente Sono esperienze Che servono Capito? Fighissimo 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 Che mi fa No perché Tu hai litigato A Cerbero Oppure Tu Goddario Sfondi una porta Apertissima Tu pensa A questi Vite Che conducono Questi secondo me Sono quelli Che comprano I reti E materassi Da Mastrotta Sono loro È quella gente Lì È quella gente Che guarda La televendita Ci crede Ah sì Questa è roba buona E se la compra Ok E magari chiama per primo Perché così C'è il set di penzo Secondo me sì Se sbrigano Sì esatto E mi danno Il coso in omaggio Un brando giorni Sì solo Solo per oggi Sempre Comunque sì C'è il cane di Franchino Ragazzi Qui sotto Con noi Qualcuno l'ha intravisto Mentre cercava di spuntare Prego Prossimo Yuma Sì esatto Yuma Bravi Sapete tutto Siete informatissimi Paura Pronto Sapete Tutto spiattellato Ciao 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 a tutti Ciao tesoro Io sono Il secondo Daniele Di questa live Ciao Daniele Dimmi E mio nick Gaetano Laser Gaetano Ma sì Ma vi conosco tutti oggi È bellissimo Gaetano Laser Vai Mi fa piacere Ma poi che non è Allora Diciamo che Partendo dal presupposto Che io sono nato E cresciuto In un paese Molto piccolo Circa 1000 abitanti Lontano Comunque Da una città La città 75.000 Quindi non è neanche Questa grande città Ok E poi mi sono trasferito All'estero Una città più grossa Quindi diciamo Ho vissuto Entrambe le situazioni Io sono pro Paese Cioè Molto semplicemente Odio il chiasso Non sopporto molto Preferisco la quiete La pace La casetta fuori Col giardino Il mio tema Principalmente È la privacy La privacy Che annuncia La libertà Il trattamento Dei dati personali Questo controllo Un po' E vi spiego Di recente Per una ricerca Universitaria Sono incappato Nell'argomento Città verticali Città smart Ok Ovvero questa sorta Di metropoli Che come prerequisito Scusate Hanno il Diciamo Devono essere verdi Comunque quindi La vegetazione Non manca Hanno Diciamo Sono metropoli Che si sviluppano Verso l'alto Hanno bisogno Di una infrastruttura Architettura Molto precisa E che mirano Un po' A racchiudere Le comunità Tutti i servizi Ecco In una comunità sola Le città smart Hanno molti vantaggi Per dire Trasporti molto efficienti Servizi pubblici In generale Molto più efficienti Opportunità di lavoro Ma ci sono già In Italia città Di questo tipo? Sì Penso Penso di sì Penso che Milano In un certo senso Forse quelle più grosse Non so Firenze Torino Roma Ok Non so bene come Sicuramente Nel mondo esistono già La più Diciamo Vicina Che mi viene in mente Forse Singapore O qualcosa Verso l'Asia Comunque Un altro tema Un altro vantaggio È Il tasso Di criminalità Che viene Infelizzato Un grosso Però Svantaggio È appunto La perdita Della nostra privacy Perché dice? Controllo sociale Quasi Che diventa Penso Maniacale Quasi tutti schedati Insomma Avere telecamere ovunque Sapere Chiunque Chi è Diciamo Questo È Il concept Del futuro Che viene presentato Quindi Io ho due domande Diciamo Principali La prima è Non vi fa paura Questa cosa Specialmente venendo Da paesi Quindi Non sapendo Anche Essendo immaginario Dove si spingerà Questo concept E Insomma Qual è la vostra idea Di futuro In questo senso Cosa vedete Non vi fa paura Questo concept E la seconda domanda La faccio già Giusto Trattandosi Di Gusti Praticamente Di Gusti Personali Insomma Chi preferisce Paese O città Penso sia Dettato anche Dalle abitudini Dove uno è cresciuto Come secondo voi Si trasformerà La città Del futuro Affinché possa Includere Chiunque Cioè Soddisfare Adattare Tutti Tutti quanti I gusti Di tutti quanti Allora Secondo me La seconda domanda È utopica Cioè secondo me Non accadrà mai Impossibile Al contrario Sempre meno inclusive Sì secondo me Saranno sempre meno inclusive E non ci sarà mai Una roba del genere Per quanto riguarda La prima domanda Certo che mi fa paura Chiaro Il trattamento Di dati personali È un tema Sempre attuale Molto caldo Che sarà Sempre di più Sulla bocca di tutti Col passare del tempo Però noi condividiamo Dati personali In maniera anche Involontaria Continuamente Quindi È un disastro Ecco Avere Quindi Che cambi la cosa E ci sia Anche nella vita Di tutti i giorni Mentre vado in giro A fare la spesa Eccetera Quando tutti i giorni Con il mio cellulare Condivido i miei dati personali Per ogni cosa Beh insomma Mi sembra anche abbastanza Ridicolo Perché L'immagine forse Intendeva La ripresa dell'immagine Sì Sì Non lo so Non so cosa pensare Speriamo di no Speriamo Sono spaventato Chiaro Ma penso tutti Siano spaventati In una cosa così Credo Non lo so Io ho sviluppato Diciamo una risposta Una mia idea Io ho una lista Davanti Ho la mia ricerca E vedo che Un disvantaggio È Il training Un pre-training È un requisito Fondamentale Per queste città Quindi penso che Come detto Molte persone Verranno esclusi O comunque Molto utopica Come situazione Ma soprattutto Io ho pensato Molte persone La maggior parte Quando Insomma Viene menzionata La privacy Il trattamento Dei propri dati personali Si triggera In un certo senso Un po' Si tira un po' indietro Ok Quando poi in realtà Fin dalla nascita Dei social Sostanzialmente Noi già forniamo I nostri dati I nostri dati Sono sotto Eh sì Appunto Per quello dicevo Per quello dicevo Sì Però essere ripreso È un po' diverso Ti dà un Forse io Vivendo Per la situazione Che vivo adesso In questa città Che comunque Nella zona in generale Non è molto simpatica Diciamo Non è super criminale C'è di peggio Però Ho visto situazioni Visto situazioni Un po' strane Un po' ambiglio Che non vorresti Non ci vorresti trovare E quindi io penso Visto che già forniamo I nostri dati Perché non fare Un passo in più Verso il futuro E appoggiare Questa idea Se significa Comunque Eh Avere meno criminalità Ridurre criminalità E aumentare Diciamo Avere una società Più Eh Come dire Felice In questo senso Ok Bah Secondo me No Un controllo Così estremo Non porta A una società Felice Anzi porta Semplicemente A una diffidenza Generale Ancora più maggiore E a un'esplosione Enorme Della faccenda Quindi io sarei Per una maggiore libertà Ecco Un controllo E mettere le telecamere Nei punti strategici Dove effettivamente Si possono avvenire Decrimini o altro Un controllo E mettere ovunque Per creare una società Modello Ideale Che poi ideale Non è Tra l'altro ci hanno provato In America Ci hanno provato Ci provò anche Disney Mi pare E tutto questo progetto Andò a puttane Quindi Non Secondo me Non può funzionare Ecco Non sono molto Certo Per voi ragazzi Sì no Una cosa Anch'io Sono un po' diffidente Su questo Esempio Mi rubano in casa Suona l'allarme Io ho bisogno Di una comunità viva Quindi del mio vicino Che si interessa Si affaccia E è il primo A controllare La mia casa Non ho bisogno Di una telecamera Che mi protegga da questo E magari la vicino Suona l'allarme E sto piena Alla finestra Quindi io Andrei più A lavorare molto di più Sul senso di appartenenza Allo spirito di qualità Come si diceva prima Tra l'altro Cioè la socialità La sensibilizzazione Del vicino E della comunità Cosa che c'è di più C'è di meno Quando si va a perdere Subisce anche questo Il paese è meno controllato Per me la società ideale È proprio quelli Che si danno una mano L'uno con l'altro Continuamente Su tutte le questioni E che non si fanno I cazzi propri Quando non devono farseli Ma solo quando devono Per aiutare la comunità Però è un'utopia È un'utopia È un'utopia totale Un'utopia totale Grazie mille tesoro Comunque Grazie a voi Grazie a voi Ciao 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 Interessante Grazie Ciao 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 Oggi non ne faccio passare Nemmeno uno Grappino Ospiti poco coinvolti Da questi interventi Semplicemente ci limitiamo Ad ascoltare Quando una persona parla La ascoltiamo E poi rispondiamo dopo Capito Grappino Non si può andare sempre Negli ospiti Perché si è abituato Ai culi che twercano Su tiktok Ogni cinque secondi E bisogna sempre di stimoli C'è anche il dialogo E l'ascolto Va bene Oggi no pasaran No pasaran Andiamo avanti L'ascolto ce lo siamo dimenticato È un pochetto Quindi ci fa strano Quando vediamo persone Che ascoltano Raga Dai coraggio Dai 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 Prossimo Pronto Ciao ragazzi Ciao 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 Fabio di 94 Ciao bello Dimmi tutto E niente Sì sento Sì 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 Infatti Cosa ho fatto Proprio di questo Volevo parlare Io praticamente sto Ad ansio Da settembre 2021 E non è Roma E non è Roma Bravo Però è da recentissimo Stai ad ansio Sì sì Diciamo sì Però calcola io Uno Prima non volevo andare In partenza Infatti perché ci sono andato Un famiglia Io non sono neanche capito piccolo Che magari dicevi Sai ci hanno trascinato Per i capelli Però per motivi familiari Ho detto vabbè Fammi andare pure a me Fammi andare a dare la mano E il discorso che E il giorno dopo Io già Ho avuto cose Tipo Salsito fuori da testa Poi andare via E infatti Io poi Andando avanti Ho convinto Mio padre Più o meno Perché aveva comprato Sta casa qua A rivendere Il discorso che È un anno È un anno Che stiamo Che stiamo Già rivendendo E il problema È che Già ne avevo parlato Con Franchino In una sua live Non so se si ricorda E mi dicevo Io venivo praticamente Da un quartiere Del centro Che si chiama Testaccio Con le sponsor E venendo da lì Perché comunque Io abitavo lì Da quando avevo 16 anni Perché Diciamo che È lì che È nata bene La mia vita Il mio lavoro Le mie relazioni E mi sono spostato A 26 27 anni Qui a Anzio E Ok che stai 60 km Ok tutto Non me ne vogliono I nativi di Anzio Ma Qui non c'è un cazzo Qui non Non c'è un cazzo Ah ok Eh ma frate Perché ti sei spostato In un posto De merda Cioè capito Cioè nel senso La scelta Di tuo padre Della tua famiglia O di quello Che è successo Di trovare una vita Più a misura D'uomo migliore In un paesino Eccetera Così accontentiamo Anche il tipo di prima E io parlo Sopra la gente Senza ascoltarle In maniera definitiva Magari al tipo di prima Gli piace Questo mio intervento Così È stato fatto Da Testaccio Che è in quel rione Storico Un quartiere De Roma Popolare Bello Vissuto Con un sacco di gente Un sacco di fregna Un sacco di droga A un posto De merda Dove non trovi Manco una fritturina Esatto Il problema fondamentale Lavoravo da Remo Non so se conosci Eh certo Facevo 20 km A serata Però il discorso mio È che Ne fa serata Perché ok Che stai a 60 km Da Roma Però È possibile Che c'è così Tanta differenza Basta spostarsi così poco Eh lo so E qui ragazzi Se non c'hai la macchina Perché io purtroppo Non c'ho la macchina No Date una chiudata Fai prima Date una chiudata Fai prima No Vabbè dai No Date una chiudata È un termine romanesco Sto suggerendo Di darsi una chiudata Ah ok Certo È un modo di dire Date una fat Eh cioè Nel senso Metti dell'anima in pace Ah Metti dell'anima in pace Vedi tipo Sì 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 No ma Infatti ripeto È un anno che stanno vendi da casa Prima o poi venderemo Prima o poi tornerò a Roma Se ne è testace A Monteverde Se ne è partila Insomma Perché comunque Uno deve vivere L'autore Eppure per la salute mia Da famiglia mia Più carta Perché qui Purtroppo Due anni che stiamo qua Perché abituati a Roma Cioè Ok che Roma Io poi a testace Ho abitato 12 anni Perché a testace È il quartiere di Natale Di mio padre Però io abitato a Bastoggi Prima Valle Perché Io Roma la conosco Non so se franchino Comunque c'è presente Molti quartieri Ma c'è presente C'è presente Certo No no Bastoggi soprattutto Perché Bastoggi Ce n'è che Sta a Prima Valle Ok ho visto Ci ha fatti i video Bastoggi La conosco perfettamente Dietro a Cusano Lì Eh certo Certo Perciò non è che sto Di capito Sto al pariolino Che è venuto al paese No vabbè Quello no Quello no Però speriamo Io ti auguro Che tu ce la faccia Perché così Ti vedo insofferente Ti sento insofferente Madonna Parecchio Che boia È un pochetto Perché comunque Ripeto Sono due anni Che sto fuori E fortuna Che E l'hai V2 Ah sì Almeno sai Passavo Passavo quelle 3-4 ore E cosa Almeno Staccavo il cervello Perché Purtroppo Sono uno che Sono uno che Purtroppo C'è una volta A tanchi di rabbia Quindi Minchia Cioè Ma mica contro Mica contro qualcuno Con me stesso Certo Certo Ho capito Ma Ma Sono andato A cercare un po' Io Però tu ti rendi conto Qual è Dario La differenza Tra un ragazzo Così Che Viene da Roma Da testaccio Non fa lo streamer Non gioca i videogiochi Cioè E Va ad Anzio Anzio È il paese Accanto al fazzone Sì Conosso Invece Invece Il fazzone Da Roma Cioè Proprio Ha nato a viveci Appositamente Cioè Ecco Il contrario Praticamente Cioè Capisci Qual è A volte La dualità Ritorniamo All'inizio Della live Del discorso Dipende dal carattere Da quello che cerchi Dalle esigenze Perché due ragazzi Uno Oddio Devo ritorna a Roma E invece Quell'altro No no Io a Roma Non ci ritorneriamo mai Sto bene a Nettuno Stiamo a parlare Il paese accanto Vedo l'ora Ma cosa Si sembrerò Boro Pure dal carattere Ho visto qualcosa In chat Sbatti Tenete la chat La conosco La conosco Quasi 29 anni Però Ma scusa Cos'è che ti piaceva tanto Della vita di città Cioè cos'è che ti stimola E ti fa venire voglia di andare Cioè Cos'è quello che ti piace di più Della città Dici Sì sì No è tutto L'amici La surca Come si parlava prima Naturalmente Perché qui Naturalmente Mi dispiace Mi dispiace Ma scusa Il tinderino non c'è ad ansia Hai provato a uscire con qualcuno Dei paesi vicini Cioè Ma scusa Ma di pazienza Mettiti davanti Casa del fazzone E provaci con quelle che escono da casa sua Ne usciranno almeno un centinaio l'anno C'ha ragione Dico No ma niente Sivo Cifra ci sia andata Anche Anche Kasumi Sen A Roma Dalle parti del fazzone Ma non lo sappiamo ovviamente Però Sivo Cifra che a Roma Anche Kasumi Sen Si è andata Posso dire una cosa Sì Manco se ci vedo In che senso Manco se ci vedo Ma con Kasumi Sen Ma proprio 600 ragazzi Che escono da casa Si fu Cifra che si è andata Un band De fam Manco se ci vedo In breve Faccio il contrario De Franchino Franchino Non vedo l'ora di tornare giù Io non vedo l'ora di tornare giù Per motivi Per motivi differenti Naturalmente Perché io poi comunque Faccio il cuoco E Sto nel discorso A sostanza macchina Certo È un problema È un problema Io non vedo l'ora di tornare giù Capito Perché a me proprio La vita di città Io non pensavo Io prima deveni ansia Non pensavo di essere così Un tipo Non ti dico proprio Dipendente dalla città Però L'amici L'acomodino A me manca L'Atac Perché L'Atac Come cazzo fa a mancarti l'Atac Ti prendono come testimonial Ti giro Questo posto Mi ha fatto In mancanza dell'Atac Perché qui manchi I mezzi Esistono E niente Mi manca l'Atac Che è la più bella Cioè Io penso che sia La frase d'amore Più bella Dedicata a Roma Ah no Sì Mi manca l'Atac Che manca l'Atac Perché mi sei No ma poi io vado giù Ogni tanto Perché comunque Giù da amici Da parenti Cioè Certo Certo Cioè Dai Quella boccata Quella boccata Di Roma Ecco Di smog Di smog Di amicizia Di cazzate Di gente che si ammazza Di gente bestibica Cioè Capito Ma ho capito Ma ti Mago tanziti Sì 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 In estate Con la buzza di sudore Sì Cinque Ti ripeto Lavoravo Prima di Venianza Lavoravo da Remo Fatto da Franchino Remo che cos'è Eh Ermaragana Esatto Esatto Grazie mille tesoro Comunque sei stato meraviglioso Ciao Grazie a voi ragazzi Ciao Ciao Ovviamente quello di Kasumi Seno è uno scherzo Eh Mi stengo a dirlo A specificare No ma anche perché dal fazzone Dai E' un bel ragazzo il fazzone Ma uff Cioè Abbaia E non morde Mangia i croccantini No Sì Però dice Non to come the fam Ma lo dice lui No Non lo dicono anche persone a lui vicine Ma sì Ma che vogliono bene Lo esaltano Lo trovano un pochino Vabbè andiamo avanti Dai Prego E' una sete Ho sbagliato Non metti ci bicchiere Ehi ciao Tranquino Ciao 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 Alle oli 98 Sulla chat Chi sei te? Oh Ragazzi non mi sento Eh Sì Ti sento Si Ti sento Dimmi Ora sì Vi sento Chi sei? Ciao Che è appena stato sciolto Per mafia Quindi lascio già Tante Per chiudere il cerchio Lui bello Bello Guarda Fallo finire Era meglio Fallo finire Dice Principalmente volevo Volevo sapere da voi Come dovrebbe un ragazzo Riscattarsi da un luogo dove In tutta la basilicata Parlo Manca Cioè non ci sono fumetterie Per andare in fumetteria Mi devo spostare Di chilometri Andare in Puglia Un'altra regione Andare in Puglia addirittura? Sì Manco c'è proprio nella basilicata Una fumetteria No Che io sappia Ce n'è una Verso Potenza Che serve un Mezzo di macchina La Puglia è più vicina Addirittura Cioè Qualcuno ce l'apre Eh ma Non c'è interesse Non c'è interesse Non c'è vendita Esatto Ma scusa Quanti anni hai? Quanti anni hai? 25 E vattene Lavori? Eh Sto lavorando Sto mettendo i soldi Da parte per andare Eh allora A posto Frade Resisti per questo Eh come Non è che ti devi scattare Semplicemente Devi aspettare Pazientare E poi ti devi darvi Cazzo e vai Dove ti pare C'ho anche la rima No? Eh Lo so Però essendo che Il problema è proprio Il discorso del paesino Il legamento alla terra Ah comunque ti piace allora La famiglia A quelle amicizie Che ci sono No frate O devi superare O devi superare Cioè nel senso Va bene la famiglia Va bene gli affetti Va bene il sentimento Che c'hai nei confronti Della tua terra Madre patria Però Devi andare colto O devi superare Ovviamente Devi da un colpo Al cerchio Una botte E te ne vai In una città Magari vicino Insomma Che però Ti offra una vita Delle chance Delle possibilità Per il riscatto Poi In treno A domenica Te fai due ore Di treno E vai ammagnato Madre Eh Lo so Però Quello che volevo fare Davvero io Era cercare Proprio di cambiare Il tutto Cioè rivoluzione Del tutto Lì Dove stai te Sì In un paesino Dei sette milani Ma in basilicata Prosciolto per mafia Ma frate Ma c'è Se riesci Io ti voto Alle elezioni C'è qualcosa in testa Che non ci ho ancora detto Ce l'hai un progetto Se fai questi discorsi Magari è magistrato No no Ti vuoi impegnare Ora Sì Sì Allora io Te lo consiglio No dai Prova Un tentativo Provalo Perché tanto Ma che progetto hai Cioè cosa vorresti fare È un impegno politico Vuole fare Davvero Sì Anche Anche vabbè Dai Allora Se vanno short ora Fra un anno Andate a votare Inizia a preparare tutto Metti su qualche Due o tre persone come te Lista civica Come Frank Enos E via Ti do due dritte Ce lo dici Ce lo dici Prendiamo la residenza lì Ti votiamo E poi la togliamo Dai raga No A parte tutto Easy Ce l'hai Ce ne saranno due o tre Che condividono questa passione Insieme a te Questa voglia di riscatto Eh Sì e no Perché La vedo un po' male La vedo Io Perlomeno Magari so pure io Che non Che vedo un po' del marciume In giro però Eh cerca Prova Tenta Prova Metti tutti al tavolo E ragionatene E parlatene Ok Seguirò il consiglio Ah Già cambiate Cosa ti ha fatto Non è una cosa Risolto Ok beh Non è una cosa impossibile Difficile Però Io ho percepito Il suo attaccamento Proprio viscerale Poi vai via Se magari non va bene Tutto Come diceva franchino Però provaci Se no poi c'hai rimorsi Bene Io sono d'accordo con Dario Vai prova Tenta E vedi cosa succede Magari trovi Veramente qualcuno Che ha le tue stesse idee Che non credevi Potesse avere le tue stesse idee E vedete un po' Cosa succede Vai prova almeno Così almeno Non c'hai impianti Se poi ti trasferirai Con i soldi messi da parte Capito? Certo Facci sapere poi Grazie di tutto Dario Grazie per farmi compagnia In questo paesino Di Settemilani Ma figurati Grazie a te Importante arrivi internet Poi sono contento Grazie di cuore Grazie a te Per il sostegno Ti abbraccio Grazie a voi ragazzi Ciao Ciao Ma puoi entrare uno Con cui io voglio litigare Con qualcuno Allora va bene Allora ti accontento subito Facciamo entrare L'ultimo H Fai entrare La persona che ti ho detto Facciamo entrare Questa persona qua Che non Ah ma che era la sorpresa Che mi dicevi prima La sorpresa Subito Giochiamo? Sì ma subito Ehi Ciao Dario Ciao a lui è Eddie Te lo prego mio amico Si chiama Ciao Eddie Allora ragazzo Eddie Ciao Eddie Allora racconta È lui la sorpresa Sì racconta cosa è successo Perché sei qui Io sono qui per fare una critica sociale No Allora Eh per forza dai Allora sono qui per parlare con il mio amico Franchino è criminale In arte vabbè Franchino è criminale Eh sì Ma perché amico Io non lo conosco Chi è lo conosco? No non lo conosco Ecco qua le prime offese No non ha detto niente Non ha detto niente Ho detto non ti conosco Di Allora Allora devo darti prima del pretesto Backgrounds Il contesto Non è il pretesto Vabbè comunque Emozionato Vittornazzo Sì 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 Ti seguo calcolo Tipo dal periodo Spigo Le cicalone Che ti pigliano per il culo Per catena cinetica E cazzi vari Poi vabbè Inizio il periodo dei forni Ogni video Inizio a fissarmelo Come una meba È che ho sto piccolo problemino Tipo nel cervello Che tipo Appena sento un dialetto Inizio a Imitarlo Non perché voglio Voglio somigliarci Ma perché mi fa ridere Soprattutto Il romano E Il fatto sta che inizio A spammarti sulle storie I video Il supplier La pizza Basso Scrocchiarella E Testimone Nanni Che tra l'altro Ti ha chiesto di farmi Un video augurio Per il mio complanno Che hai fatto Che ho visto Certo Un propic di Telegram Per nove mesi Non Quel video saluto lì L'ha reso La sua propic di Telegram Per nove mesi Ok Quindi Per farti capire Quanto è fanboy tuo È questo ragazzo Fanboyissimo Sì 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 Devo succhiare il cazzo Vabbè dai Vabbè Sì 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 Il fatto sta che Un giorno Vabbè Decido di Andare a far serata Con gli amici Si succhiano Un pene tra amici Alla fine Non si fanno queste cose Vedo un forno Vedo un forno Mi pido giusto Tipo un soup lì Un cazzettino Di dove sei? Di Verona Verona Di Verona Ok Certo Sì calcola Quindi appunto Guardo un video di Roma Che è una città Che manco mi riguarda Però Il franchino nazionale Ovviamente dai Vedo sto forno Dopo il serato Mi pido un soup lì Un cazzettino Mi riporto a casa Fanno cagare al cazzo E quindi Per Per non scoppiare a piangere Inizio a farci le storie Funni Inizio a parlare come te Inizio a dire Cazzo è sta roba anemica N.C.S.P. Vabbè Cazzi vari E Posta che ti taggo Niente Finisce lì Mesi dopo Apro le storie Non mi ricordo Adesso se era Nani o Dada E vedo che stavate Fostando un video insieme Ti ha taggato Io penso Minchia ma perché Franchinone Non posta mai un cazzo Quindi provo ad aprire Il profilo Apro E non me lo trovo Ho detto Hanno Shadow bannato il mio babbo Sembrerebbe Perché Il mio babbo sei te Ma io sono Eternamente Shadow bannato Non è quella la ragione Mi sa che non è Quello il problemino L'ho bloccato Eh Ti cerco L'altro profilo Mi hai bloccato Io penso Tio buono Ma che fai Franchino Mi aveva parlato Toscano Anche Lo cerco Bloccato Non so cosa fare Alla fine Un po' Ci sono rimasto male E L'unica risposta Che mi sono dato È stato magari Era un periodo Dove tutti Ti perculavano Per i meme Mi ha bloccato Beh posso dire Ci sono rimasto male Perché Dai alla fine Supporto Lascio like Seguo video Nemmeno C'è nessuna città Che nemmeno mi riguarda Da me ero fan Mi ritrovo solo Abbandonato E perché no Solo abbandonato Ogni volta che vedo un ponte Facevo pensieri particolari No È vero Sì 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 Quindi c'è la fine Conferma anche Sì 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 Dimmi caro dimmi Dimmi tutto caro Io sì sì Sono venuto qua Franco A mani aperte A chiederti Di sbannarmi tutto Poi per chiedertare Se non vuoi Puoi dirmi Asi che mercazzo Non te sbanno Cioè dimmi Vieni fuori Come uomini veri Si fa cazzotti Come gli uomini veri Ma gli uomini veri Non fanno più a cazzotti Nel 2023 Sono d'accordo Bravo Diamo questo grande messaggio Si confrontano Senza peli sulla lingua Ma insomma Confronti verbali Facciamo questo grande gesto Sbanniamo Eddie Ma no Ma anche perché Per fare a cazzotti Esistono gli sport Per fare a cazzotti Fate Avete voglia di fare a cazzotti? Fate pugilato Va bene Però ora stiamo perdendo il punto Dobbiamo fare un grande gesto E sbannare Eddie Che ti amava E per un frattino Ma io non lo so Perché l'ho bannato Io lo so Guarda gli ultimi messaggi Io ho questo problema Che L'utenza Come tutti Fa girare il cazzo Certo A te quanti Quanti ti fanno girare Il cazzo Tanti Anche se mi sono un po' Tranquillizzato Quindi ci sono Dei periodi In cui sei più tollerante Sì E ci sono Dei periodi Basta Sì No invece Ci sono dei periodi In cui sono molto tollerante Non leggo Non lascio perdere Ecco Ormai molti commenti su YouTube Ma ancora li leggo Eccetera E poi ci sono Dei momenti In cui Ovviamente Metterò Vedete più il culo E quindi sei molto meno intollerante Perché Questo è un appello Che faccio A tutta l'utenza Non solo a lui Non solo a lui Voi vi mettete sempre Comunque Vi guardate nel vostro singolo Cioè nel senso Io sono io E sto Mandando un messaggio A Dario Moccia Dario Moccia Invece riceve Centomila messaggi Ed è sotto Una Una gogna Costante Di messaggistica Di DM Di commenti Di cose Che sono Tante 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 persone A un certo punto È anche difficile Distinguere La trollata Lo scherzo Il fan Che ti sta perculando E quando passi Il periodo Quello meno Nel chill Cioè quindi Quello un po' più stressato Perché magari Ti arriva la denuncia Che ti viene a ritirare Cioè la lettera De quell'età Condensa La telecamera Ti sei rotta Perché anche noi Abbiamo un sacco De problemi E non sapete quanti Ce ne abbiamo Molti di più De voi Perché No molti di più Però più fai cose E più hai problemi Più la tua quotidianità È piena di roba E più hai cazzi Da risolvere Quindi molte volte Siamo pure stressati E questo stress Non lo dovete calcolare Singolo singolo Ma lo dovete calcolare Centomila persone Singolo Io sono bannato Da Instagram Per nessun motivo valido Mi dice Daku Daku Ti mi hai mandato Una cosa come 150 reel Cioè Senza che io ti rispondessi mai Al 150 Ogni giorno Tra l'altro Quotidiano Sì esatto Ho detto Banniamo Esatto Pure a me C'è stata gente Che mi riempi DM di reel Cazzate Io prendo Ti banno Perché Non vado Poi a leggere I messaggi Magari importanti Che mi arrivano Allora magari tu Per esempio Mio fan Io non lo so Quanto tu sei Mio fan Perché c'ho 300.000 persone Che mi seguono Che ne so Quanto tu sei Mio fan O quanto tu non sei Mio fan Ad un certo punto Se mi mandi Una stronzata Tu stronzate 10 stronzate 15 stronzate E poi vedi che non rispondo Non ti ritaggo Non ti condivido Perché per me È una cazzata Quindi tu per me Poi essere fan Mio Quanto te pare Però Se dici stupidaggini Dici stupidaggini Edi non lo fa Edi non lo fa Edi non lo fa Però io sto parlando Infatti in generale Di altre cose No no Sì si te lo dice Uno ti caga il ciazzo E ti banno Ti capisco Ti capisco Io ho calato tantissimo Ormai Quindi No io comunque Molte volte come adesso Anzi Dm non ho tag Cioè tu non mi puoi scrivere Ho visto Ti volevo taggare oggi E se no Eh calcola che volevo Tipo ora quelli mi mandano sempre E io ti faccio Guarda al prossimo ti blocco Perché non ce la faccio più Allora Non entrano su 100 smerte Account bloccati Account bloccati Solo che qua mi dà la lista Ma io come faccio Ma come faccio A trovarlo negli account bloccati Edi E certo ora iniziano le scuse E guarda E certo Rancore si porta sempre Ok ma vai Ho dato il telefono A Dario Moccia Non mi cagate il cazzo Va facendo lui Come lo cerchi Lo troviamo Lo troviamo Ma c'ho un milione Sì comunque te stai male Un milione di bannati Banno tutti Sì Questa Puoi farlo vedere Uno fa una battuta tremenda Ma non si può fare Su questa piattaforma Banno tutti Non ti trovo Quanti ne banno Ma no Sono veramente migliaia Fai prima a farti un altro account E seguirmi con un altro account Edi Guarda Te lo sta guardando Dario Edi Non hai idea di cosa c'è qui Lo sta facendo Lo sta guardando lui Che propicca hai Edi Io ho tipo filtro rosso Con gli occhiali Da culo Forse ti trovo Allora aspetta Mi concentro bene Sta finendo la lista Stai bannati Quindi ti dovrei trovare No c'è Non c'è bisogno Tra l'altro Voglio salutare il mio amico Tra l'altro Fattorini Che mentre Non siamo alla rai È finita È finita la lista Ma non c'è Quindi neanche l'ho bannato È tutta una bugia Ciao Edi No 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 Ciao Fattorini Non lo trovo Non ti trovo Non ti trovo Non lo trovo Non lo trovi? Io non ti ho bannato Non ti trovo Edi non ti si trovo Aspetta ci sono forse Ci sono So come fare Sai come fare? Forse sì Come sei ora? Mandatemi i piedi O Edi Reaction? Edi mandatemi i P Capito perché poi banni le persone Edi Edi mandatemi i piedi Che fai? Edi Mandatemi i P Mandatemi i P Aspetta Edi mandatemi i P Sì Eh non ti trovo Account Qui in Italia è tutto magna magna Non ci sono più le mezze stagioni Non li trovo Edi mandatemi i P Ma perché non fai un altro account X9 E mi segui con lui C'è l'altro account Guarda guarda E mi segui Edi mandatemi Ah picco si iscritta E mi segui con l'altro account? No con l'altro mi sono infacciato Trovato Trovato Sbloccato L'hai sbloccato? Cotto Sbloccato Aspetta Utente di Edi mandatemi i P Sbloccato Sbloccato? Sì Ok Sei stato sbloccato Grande messaggio di pace Grazie mille Grande messaggio Questo si è veramente un messaggio Bello sul web Guarda gli ultimi messaggi Che ti ho mandato Per vedere un attimo Sto Per vedere No sono cancellati Ah sono cancellati Sennò si era canzo Vedere perché l'avevi bannato Ma mi sa che era veramente Un tag Tipo io che dicevo Sì comunque guarda Il cazzo è stato su pianemico E basta Eh non ti segui perché l'hai bannato Sì ti devi riseguire adesso Ah ok Io sono pazzo Io non sono normale Io non sto bene Con la testa Bada come parli Io non scherzo Io veramente Guarda Io Questa è la sua descrizione Comunque ho riseguito mio padre franchino E gli voglio bene come primo Va bene Va bene Però sappi che io Sei in prova No non ricorderò magari appunto Edi Quindi magari poi Io non li leggo neanche i nick Vedo che mi arrivano le stronzate Indipendentemente dal nick Può essere anche Dario Moccia Che magari mi manda una foto del Del cazzo Non l'ho mai fatto Io non vado a leggere che è Dario Moccia Io vedo la sua foto del cazzo E Banni E banno E banni certo E banno Va bene Non so a vedere che me l'ha mandata Dario Moccia Ci sta Però tranquillo Franchilone Dai alla fine siamo tutti I ragazzi Ma te ne vai a fanculo Edi Grazie mille Ciao 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 Edi Ciao ciao Va bene allora io ringrazio Questa era la sorpresa Ma vai a cagare Grande sorpresa Edi Grande protagonista Allora ringrazio Dario Fattolini Per essere stato qui con me Ringrazio ovviamente Franchino il criminale Lo potete seguire su Youtube Soprattutto Fai ancora Twitch Non mi ricordo Sì ogni tanto streamo Quando posso Perché ecco per esempio Adesso sono partito qua una settimana E da una settimana lo streamo Poi il 2 maggio vado in Puglia Due settimane E per due settimane lo streamerò No la vivi un po' diversamente Rispetto a me Non è il mio primo lavoro È il contatto che c'ho in diretta Con chi vuole Q&A Q&A con Franchino su Twitch praticamente Va buono Grazie mille Grazie a te caro Anche per la cena buonissima Da 9 più più Super pieno meno Io ragazzi Prendo una piccolissima pausa Saluto a tutti E poi niente Ci vediamo fra pochino Con il gaming Faccio Fallen Order Non Fighters Ma forse Fallen Order A dopo